Riprendiamo dagli esempi di copertura vegetale che possono essere utilizzati per il nostro giardino foresta a seconda degli angoli e degli ambienti che andiamo ad interessare con i nostri interventi. Stavamo parlando della copertura vegetale su dei viali o dei punti di ristoro che possono essere fatti in diversi modi. Continuando in questa direzione della copertura vegetale andiamo a vedere invece per spazi limitati cosa si può ottenere anche per un orto piccolissimo di forse due metri, un metro quadrato si possono costituire delle aiuole di dimensioni ridotte. Tutto questo non è che sono scoperte scientifiche dell'altro ieri, sono in realtà situazioni di contivazione di piante avvenute in ambienti antropizzati. Dicevamo prima un discorso che avevo solo sfiorato, l'urbanizzazione selvaggia ha riempito i nostri campi, i suoli migliori a volte, i suoli migliori sono stati coperti da case, fabbricate, strade e quant'altro. L'Italia è uno dei maggiori produttori di cemento al mondo, non solo come cemento da consumo interno ma anche come cemento da esportazione. E gli orti dove sono andati a finire? Gli orti sono finiti, gli orti familiari anche in piccole aiuole come questa, è un esempio, soltanto una depositiva simbolica, ma si può fare, anche una piccola aiuola del genere può essere utile per il fabbisogno familiare. Il giardino invece inteso come estetica, come parte vegetazionale gradevole per la nostra vita può essere un esempio del genere, dove le piante possono essere anche addossate ai muri. Le piante addossate ai muri in ambiente mediterraneo possono essere tutti i nostri rampicanti che precedentemente avevamo visto, come la vite o i kiwi o la passiflora, ma ne esistono anche altre, ne troveremo anche più avanti. C'è anche il rovo senza spine, la pianta di rovo che produce le more, che non è una pianta rampicante che può essere fatta crescere a spalliera vicino a un muro in una aiuola di 20 cm di diametro, di dimensione, di spazio, quindi agli alberi veramente basta poco per crescere. Altro esempio di giardino foresta, da queste canne intrecciate si vede e si presume che qua sotto ci sono delle piandine o di pomodori o di fagioli, piante che hanno bisogno di sostegno e che vengono supportate da questi attrezzi in legno. Poi ci sono dei fiori in primo piano. L'orto naturale, il giardino foresta, sempre circondato da piante di diversa altezza o capanni degli attrezzi, come in questo caso, è un insieme di piante dove tutte queste piante fanno parte della vita dell'orto e anche della composizione floreale, della biodiversità di questo luogo. Perché una parola ancora che non avevo introdotto ed è indispensabile tenere presente la biodiversità. Più piante diverse ci sono in un ambiente, meglio è per loro e per noi. Perché questo è l'esatto opposto delle monoculture. Le monoculture sono sempre quelle che dicevamo prima per i prodotti commerciali dove si deve produrre reddito. Se devi fare reddito devi ragionare in termini di imprenditore. E infatti adesso hanno inventato il termine che si chiama imprenditore agricolo. Prima si chiamava coltivatore diretto, ora si chiama imprenditore. E l'imprenditore, vi assicuro ci ha avuto a che fare, perché anche io sono iscritto come imprenditore agricolo, anche se non sono un imprenditore, sono solo un naturalista che fa l'orto, l'imprenditore agricolo ha dei parametri da considerare pazzeschi. Si deve calcolare in un'azienda agricola anche il suolo occupato da un trattore. Perché il trattore occupa una certa superficie che ti viene a essere scorporata, detratta dal reddito. Se hai un capannone ti sta sottraendo del suolo, non ci puoi coltivare niente. E beh ci devi tenere gli attrezzi. Un trattore che occupa pochi metri quadrati sembra poco, ma in una grossa azienda dove ci sono 5, 6, 10 trattori ti occuperanno un capannone enorme e quello è del reddito che alla fine dell'anno deve essere detratto come costo. Quindi figuriamoci, anche il suolo che sta sotto le ruote del trattore deve essere messo tra i costi che devono compensare i ricavi ottenuti da questo campo. Quindi coltivazione intensiva a più non posso e con tutto quello che ne consegue. Il nostro orto è diverso, ci sono dei fiori che servono a volte ad ombreggiare, ci sono delle piante ornamentali che servono dicevamo prima a prevenire l'attacco di parassiti, di insetti. Ultimamente si è visto, io non l'ho sperimentato, ma credo che si possa provare a piantare l'albero di Giuda, che si chiama Cercis siliquastrum in latino, l'albero di Giuda che è un albero dai fiori bellissimi usato a volte per i viali, a piantarlo in mezzo agli alberi di melo, perché l'albero di Giuda attrae o mantiene lontano degli afidi e delle farfalle, i menotteri, delle farfalle che vanno a deporre le uova all'interno dei frutti di mela. Quindi l'albero di Giuda che è un albero può crescere, non ha competizioni perché è della stessa grandezza di un melo, non diventa più grande, non va quindi a ombreggiare, e poi è un albero ornamentale dai fiori bellissimi perché produce dei fiori nel mese di marzo circa, secondo delle latitudini, produce dei fiori di colore rosa, fucsia, come i peschi, sembra un pesco in fiore, ma non è un pesco, e produce questi fiori enormi a volte pure sul fusto, sul tronco, fino giù, senza foglie, poi le foglie usciranno dopo. Sono anche commestibili, sì. È una leguminosa, tra l'altro, vantaggio che poi troveremo più avanti, quindi arricchisce il terreno di azoto, come tutte le leguminose. Le piante leguminose sono quelle che fanno i legumi, fanno dei frutti con la forma di baccello come i piselli, quindi piselli, fave, ma anche la ginestra o l'erba medica o il trifoglio o l'albero di Giuda, sono leguminose, sono piante che hanno dei batteri azotofissatori, si chiamano, cioè nelle loro radici si formano delle micorrize, degli incrossamenti di radice, dove vivono dei batteri che riescono a fissare l'azoto atmosferico e lo passano alla pianta. La pianta, in cambio, dà ospitalità e protezione a questi batteri. Quella è una simbiosi, si chiama, quando c'è uno scambio di vantaggi per tutte e due, tra un batterio e una pianta. Un'altra simbiosi, mutualistica di questo tipo, dove c'è scambio e vantaggio a tutte e due le parti, possono essere, anzi sono quelle tra funghi del terreno o tartufi e alberi, che si chiamano micorrize. Esatto. I porcini, per esempio, o i prataioli, tutti i funghi che crescono sul terreno, sono dei funghi che crescono grazie all'aiuto delle micorrize di questi intrinseci rapporti che hanno con i capillari di alcune piante e sono specifici. Infatti c'è il porcino della quercia, quello del pino, quello del castagno, del pioppo bianco e così via. Così altri funghi. È diverso, invece, poi parleremo dei funghi che vivono sugli alberi, quelli sono dei predatori, perché si nutrono di legno. Allora, dicevamo, tutte le componenti fanno parte del nostro ecosistema, sono importanti, vanno valutate e il nostro intervento è quello di controllare che tutto vada in una certa direzione. Alla fine il giardino, l'orto, diventa un'estensione della nostra casa, della nostra famiglia. Sono elementi che fanno parte della nostra famiglia, vanno aiutati, vanno controllati, perché sono elementi artificiali messi da noi e soprattutto fatti andare indirizzati nella direzione a noi più utile, quella della produzione dei fiori o dei frutti o degli ortaggi. Questo è un esempio di ecosistema, dicevamo, che però è sempre, dicevo, artificiale, controllato, perché non può sostenersi da solo. È molto complicato farlo sostenere da solo. Altro esempio, con i vialetti, per delimitare e per il passaggio. I vialetti non sono indispensabili. A volte fanno da corredo estetico o pratico. Se si deve attraversare, non so, con una carriola c'è bisogno dei vialetti di passaggio. Se il terreno è argilloso e non ci sono dei vialetti con pietrisco, durante il periodo delle piogge l'orto è impraticabile. Da me, per esempio, non ci sono vialetti, quando c'è la pioggia non si va nell'orto. Stop. O se ci si va, che si ha necessità di raccogliere qualche cosa, tra l'altro non si può lavorare se il terreno è bagnato, ne parleremo anche di questo. Se ci si va, si deve andare con gli stivali, si raccoglie velocemente, via, ma non puoi certamente controllare o fare altri tipi di lavorazioni. I terreni, anche qua in Puglia, hanno una natura argillosa. L'argilla, lo vedremo anche più avanti, è un componente sottilissima, microscopica, di particelle che derivano dalla degradazione di rocce, di preesistenti rocce vulcaniche. Quindi rocce vulcaniche si sono decomposte, sono state dilavate, sono state portate al mare, si sono accumulate sotto forma di particelle sottilissime, e poi con la tettonica sono state spinte in alto. Questa è l'argilla. È una componente importantissima perché, vedremo sempre nei suoli, è ricca di nutrienti, ma ha dei pro e dei contro. Tra l'altro i contro erano insomma quelli che quando è bagnato non è impraticabile, quando è troppo secco, a volte dura come il cemento. Altri esempi di giardini, questa volta si vede un cavolo. Questo è un cavolo che si utilizzano le foglie, è una varietà simile al cavolo nero di Toscana, si chiama, che praticamente le foglie sono commestibili, sono dolci, croccanti, un po' come le foglie degli spinaci, ma hanno il sapore di cavolo. Poi ci sono dei vari fiori e dietro si vedono altri aiuole, a qua ci sono delle biete da costa. Il tutto può essere messo secondo i nostri gusti. E' bello in natura, non ci sono parametri, io forse purtroppo non vi posso dare degli schemi e delle tabelle che voi potete andare ad applicare nel vostro orto, perché come ci si sposta da un luogo all'altro, da una situazione all'altra, non funziona più. Ci sono delle indicazioni generali e poi c'è da mettere la nostra passione, la nostra buona volontà e l'esperienza. L'esperienza può essere trasmessa come appunto farà Angelo nella seconda parte del corso. Altre interazioni, questa volta quelle radicali di cui vi avevo accennato prima. Qui c'è un albero di un certo tipo, che potrebbe essere anche un pecan, e noce pecan, lo conoscete per caso? E' un albero che è molto simile a noce comune, ma di un altro genere e di un'altra specie. In Puglia ci sono delle coltivazioni già intensive di quest'albero, che tra l'altro se viene innestato rimane di piccole dimensioni, piccole però è sempre un albero, e può essere usato come il pecan, può essere usato al posto del noce comune per fare la famosa canopia, la parte più alta del nostro giardino. E le radici di quest'albero, guardate, hanno una caratteristica interessante, vanno sia in orizzontale e poi ogni tanto in verticale, ma vanno a intercettare, attraversano e continuano anche le radici dei cespugli, dei cespugli alti e dei cespugli bassi. Non si crea competizione tra queste radici, o comunque la competizione è limitata perché le esigenze di queste piante sono diverse. E ritorniamo a quello che ribadisco sempre, specie diverse, specie diverse. Più specie diverse si mettono è meglio è, più facile anche per noi, è più vantaggioso. Abbiamo più frutta durante tutto l'arco dell'anno, che ti matura in periodi diversi e soprattutto non si creano concorrenze. Facciamo un esempio estremo, ci piacciono le ciliegie. Non ci si può accontentare di avere solo la ferrovia che ti matura il 20 giugno e poi finiscono. Ci sono tante varietà di ciliegie e si possono coltivare ciliegie anche qua in Puglia, di tante varietà diverse. Io ne ho circa 25 varietà. Da quelle precoci a quelle tardive, praticamente alla fine mangiamo ciliegie per due mesi. Dal 5 maggio al 30 giugno. C'è sempre qualche albero di ciliegie che porta ciliegie. 25 varietà, se le vuoi tutte 25, significa mettere 25 alberi, hai bisogno di spazio. Ma c'è la fortuna che si può sempre tirare dalla nostra ed è quella di utilizzare dei porti innesti, cioè dei selvatici nanizzanti. Il ciliegio si può coltivare con delle forme di piante piccole, basse, alte 2 metri. Così, come un arbusto. Non è più un albero di questi qua, ma diventa uno di questi. E' sempre ciliegio. I frutti sono tali e quali sono buonissimi, però piccolo. Questo se non hai spazio, perché mettere 25 alberi di ciliegio normale ci vuole un frutteto. Ma 25 piantine di 2 metri le riesci a mettere anche in un giardino di dimensioni più contenute. E hai due mesi di questo tipo di frutta, se ti piacciono le ciliegie. Poi figuratevi cosa si può fare aggiungendo tutte le altre varietà. Alla fine di queste lezioni che terrò ci sono degli elenchi di piante e ci sono dei numeri indicativi di quante varietà se ne possono mettere per farne un frutteto che ti dia autosufficienza. Perché tendo ad arrivare sempre a risvolti pratici. Cioè, come fare? Prevenire quelle domande che poi mi dicono ma io nel mio terreno quante piante posso mettere di pero e quante di pesco per avere pere e pesche tutto l'anno? Tre di quelle, quattro di quelle a seconda del terreno, a seconda del clima, a seconda delle tue preferenze. Questo schema qui è una sezione di quello che sta sopra e di quello che sta sotto. Le radici e le parti aeree non vanno in competizione se scegliamo con oculatezza. Una domanda che mi avevano fatto prima e la voglio dire a tutti perché era già un'idea che avevo in mente era quella, anzi lo vedremo anche più avanti ma se ci ritorno spero di non essere noioso ma era quella di dire io nel mio terreno ho un vecchio uliveto, ho un vecchio mandorleto con alberi grandi, distanti, cosa posso fare per avere qualcosa in più? Io consiglio mai interventi drastici di monocolture, taglio tutto e poi ripianto da capo, no è sbagliato, ho un impatto troppo forte, a parte che è anche brutto dal punto di vista estetico perché vai a stravolgere un intero paesaggio, ma poi è anche brutto perché se hai dei mandorle o degli ulivi, le mandorle e l'ulivo servono, anche quelli servono. Lasciali tutti quanti, se stanno troppo stretti vanno sfoltiti perché se stanno troppo stretti se è una monocoltura intensiva dove gli alberi stanno addossati l'uno all'altro già stanno male per cavoli l'oro, quindi vanno sfoltiti perché se no non stanno bene l'oro ma se gli alberi sono distanti come gli ulivi che stanno qua fuori, infatti oggi pomeriggio andremo a fare un giro proprio per vedere praticamente queste situazioni, cosa c'è intorno a noi e come si potrebbe intervenire, tenterò di dare dei consigli di tenere questi alberi, conservarli e se sotto, oltre agli ortaggi, vogliamo mettere dei piccoli arbusti come si può trovare una soluzione per raccogliere le olive e non avere intralci quando si raccolgono i frutti? Allora, visto che i vecchi ulivi, mi riferisco a quelli grandi, hanno una chioma molto aperta con il centro vuoto si può riempire la parte vuota facendoci crescere una o due piante di vite piantate alla base dell'ulivo la vite piantata alla base dell'ulivo può andar bene, può crescere la raccolta dell'ulivo dovrebbe essere, in questo caso, fatta con gli scuotitori meccanici dall'esterno e dal basso anche perché anche industrialmente la raccolta delle olive non viene fatta più sull'albero per il rischio di cadere, scivolare, rami che si spezzano, scale avanti, indietro, è un casino è scomodo ed è sconveniente oltre che rischioso quindi se la raccolta può essere effettuata da terra si agisce da terra per la raccolta delle olive e la pianta di vite che è cresciuta all'interno con un minimo di potatura di contenimento perché non deve andare a prevaricare sulla chioma dell'ulivo ti può dare dei frutti e ce l'hai nello stesso metro quadrato di quanto occupa l'ulivo la radice dell'ulivo e quella della vite non vanno in competizione si accontentano tutte e due perché sono piante abbastanza frugali e resistenti e la fotosintesi, la vite, la può fare bene perché la parte centrale della chioma, ripeto, è scoperta attualmente gli ulivi sono quasi tutti potati in questo modo quindi hanno una superficie a disposizione non andrebbe bene tanto il kiwi perché il kiwi ha bisogno di irrigazione ma la vite, sì e avere qualche varietà di vite che produce dei grappoli non è male, può essere un'idea è un'idea io l'ho fatta in modo, vi dicevo prima, quasi semispontaneo con i pioppi ed è andata bene anche perché poi queste piante sono piante di ambiente mediterraneo, antichissime l'ulivo e la vite stanno qua da millenni e se usiamo anche varietà di vite resistente stiamo a cavallo ah frugali, che si arrangiano di poco, che si accontentano di pochi elementi nutritivi e di poche sostanze nel terreno l'ulivo riesce a vivere rustici, ma rustici anche resistenti al freddo frugale invece che si accontenta di poco nel terreno l'ulivo si dice una pianta frugale perché cresce sui suoli calcarei superficiali pieni di rocce nella spaccatura di una roccia già può crescere un'ulivo ed è frugale il kiwi non è frugale, ha bisogno di terreni freschi e l'irrigazione andiamo avanti allora, altro esempio di giardino foresta un altro elemento utile che se è possibile è quello di lasciare i rami o parti di tronchi di elementi vegetali sul suolo li vedremo anche più avanti perché se noi creiamo delle zone d'ombra e ne ribadirò spero anche in futuro oltre ad aumentare il quantitativo di acqua nel suolo questi tronchi qua opportunamente messi, per esempio dei tronchetti di pioppo se si ha la possibilità di procurarseli appena tagliati i freschi possono produrre funghi, chiodini in modo quasi spontaneo si può anche innescare l'inoculo attraverso delle spore e fungine che si comprano è una specie di polverina bianca che si mette su questi tronchi quando c'è umidità oppure si fanno dei tagli verticali con il motosega in modo che questa polverina rimane nei tagli oppure si mette questa polverina e poi si ricoprono i tronchi con uno strato di plastica proprio un film di plastica, quello da imballaggio e queste micorrizi attaccano il legno, se ne nutrono e dopo un certo periodo anche dopo 5-6 mesi, se tutto va bene, usciranno i chiodini chiodino di pioppo che è un fungo coltivabile anche abbastanza buono allora, altro esempio di giardini sempre diversi con piante alte vedete, sullo sfondo ci sono alberi alti che fanno da frangimento in questo caso ombreggiamento parziale altra domanda che era venuta fuori di un orto che era stato fatto in punto in cui d'estate è pieno sole e d'inverno tanta ombra attenzione al passaggio del sole è una cosa che io ribadisco sempre perché anche quando si costruiscono le case si costruiscono le case con un foglio di mappa cioè con un foglio della planimetria che sta su un tavolo lo prendi e ci posizioni la casa come meglio ti piace poi si piazzano le scale dove passa il sole la cucina dove stai sempre in ombra e terrai la luce accesa tutta la vita in cucina e il bagno al sole la casa va orientata in un certo modo quando si ha la possibilità di farla o di arredrarla anche se la vedi a casa e la vuoi ristrutturare vuoi modificare portati la cucina al sole così non tieni la luce accesa tutti i giorni e il bagno è la zona notte dove è il nord che non ci passa il sole e così non dovrai tenere la luce accesa continuamente la casa va orientata ripeto, quando è possibile tale e quale come va orientato un ecosistema del genere perché è un ambiente in cui si vive anche qua si vive anche se è una parte del tempo del giorno ma è un ambiente insomma è un ambiente dove ci sono dei fattori da considerare l'illuminazione e il sole è molto importante le barriere che dicevamo prima possono essere di questo tipo per prevenire l'invasione di insetti che volano molto bassi all'altezza di un bambino e poi possono dare anche un senso estetico per separare ciò che è coltivato dal prato in questo caso il prato è stato sfalciato qualche volta ma noi possiamo anche considerare un prato completamente naturale un prato completamente naturale significa che l'erba arriverà anche a un metro d'altezza non è un problema non c'è niente da preoccuparsi se noi vogliamo dei fiori selvatici che riempiono il nostro prato di colori tutto l'anno può andare bene anche quello gli interventi nel piccolo nel nostro giardino non devono essere ripeto mai ossessivi e dominati dalla meccanizzazione o dagli interventi dell'agricoltura diciamo quella intensiva è tutto un altro sistema questo è tutto un altro mondo da vivere alla nostra portata io ho un frutteto piccolo sperimentale di alberi di giungo e ciliegio susine, prugne piante che crescono sul suolo asciutto quasi come il vostro quindi roccia affiorante terreno asciutto senza irrigazione dopo quattro anni ho cominciato a raccogliere i frutti e non ho mai tagliato l'erba neanche una volta sono in completo attrito con mio padre che ha una visione un po' più antica l'erba è alta così un metro per questo le conosco questa situazione perché le ho vissute e l'erba è alta così dopo quattro anni l'erba si sta tranquillizzando succede una cosa particolare quando hai un prato che sia un campo coltivato o meno e vai ad arare passi con il trattore e rivolti il terreno io ho dovuto fare lo scasso con un mini escavatore perché il terreno era compatto e non potevo scavare le buche a mano perché era una lavoraccio da pazzi scavare 50 buche a mano in un terreno compatto non è palestra non è ginnastica è una faticaccia ho preso un mini escavatorino e mi sono fatto le buche ho stravolto ho stravolto tutto l'ecosistema nei primi anni le piante erano alte così di erbacce alte quanto le piante che avevo messo erano quasi soffocate ho cercato di allargare solo dove era necessario e ho dovuto dare un po' di acqua per sostegno per far sopravvivere le prime due estati dopo la terza estate tutto è andato meglio adesso le piante si stanno abbassando di dimensione sapete perché? l'ombra bravi l'ombra perché le piante che io ho messo sono alberi quello che dicevo stamattina e gli alberi sono più forti a competere sull'erbacee e l'ombra le sta facendo abbassare tranquillizzare però ho dovuto aspettare quattro anni e vi assicuro che quattro anni prudono le mani tutti quanti per fortuna sta in un posto dove non lo vedono ma chi lo vede dice eh ma quello è mica un frutteto l'hai abbandonato mi recriminano che l'ho abbandonato ma no l'erba secca ma non tutta perché ci sono anche delle erbe delle graminacee che restano verdi durante l'estate perché fioriscono in estate quelle sono a ciclo continuo alcune seccano alcune restano verdi poi secondo degli ambienti qua secca tutto perché se tu vai a intervenire in uno di questi campi non ci sono più le erbe selvatiche resistenti con i diserbanti e con le bruciature qui sei andato più indietro nel tempo quindi o più avanti secondo come la vuoi valutare qui hai selezionato delle piante che resistono al fuoco e diserbanti e scappano l'estate sfuggono all'estate sotto forma di semi ecco perché seccano tutte ma se tu prendi quella che vedremo tra poco la maccia mediterranea o la gariga che è la maccia mediterranea involuta cioè la maccia mediterranea quando viene distrutta diventa gariga poi c'è la steppe il deserto è un procedimento insomma distruttivo la gariga dicevo è fatta di piante sempre verdi erbacee e spesso di colorazioni grigiastre una pianta della gariga di colorazioni grigiastre per esempio può essere come la salvia oppure verdi come il rosmarino che sono piante abbastanza basse ma ce ne sono un'infinità di piante anche l'elicriso poi ci sarà una foto più avanti ve la farò vedere un gespuglio erbaceo di 50 cm che rimane verde tutto l'anno e fiorisce in estate la natura si organizza perché per fortuna ha la possibilità e ha la forza di organizzarsi che se la natura non avesse la forza di recupero sarebbe finita la vita sulla terra perché basterebbe passare una volta col fuoco in più o con qualche diserbante in più e avremmo sterilizzato tutto e non ci sarebbe più nessuna forma di vita per fortuna resiste perché perché anche questo perché c'è la biodiversità nel terreno che dice Tony secca tutto comunque c'è una biodiversità di semi e di piante enorme ci sono quelle che sono riuscite a resistere pure ai diserbanti infatti nei campi diserbati o passati dal fuoco ci sono sempre le stesse piante che si trovano in ambiente mediterraneo e sono quelle che riescono a scampare anche queste situazioni estreme drastiche catastrofiche il diserbante e il fuoco sono situazioni proprio aberranti è come andare in una stalla con la mitragliatrice non selezioni niente spari a caso colpisci tutti e chi rimane rimane giusto perché non è passato di là in quel momento quindi diserbante e fuoco sono gli estremi a cui si è arrivato per fare subito per fare presto non perdere tempo perché se non perdi tempo aumenti il reddito ok altro esempio di giardino foresta visto dall'alto anche con delle strutture delle aiuole che si possono trovare al centro e diventano degli ambienti vi assicuro degli ambienti molto piacevoli perché io dico sempre alle persone a cui consiglio anche a dei clienti a volte il giardino non è il giardino foresta o il giardino orto non è una cartolina che tu lo fai oggi molte persone hanno fretta vogliono comprare le piante già con i fiori metterle nel terreno e guardarsene stare così ho come è bello il mio giardino il giardino non è così non è un elemento statico è dinamico continua a modificarsi e continua a cambiare durante lo stesso anno figuriamoci dopo due o tre anni il giardino è qualche cosa che tra virgolette può essere assunto come una creatura a nostra immagine e somiglianza per darci proprio un tono per darci un tono perché ognuno lo fa con le piante che vuole ognuno ci fa i vialetti che vuole i cespugli che vuole i fiori che preferisce del colore che preferisce non c'è un giardino standard da cartolina il giardino standard da cartolina mi riferisco a quei giardini per esempio dei grandi alberghi o delle ville prato inglese nel sud Italia è da pazzi mi sembra di fare come Beppe Grigio è da pazzi perché perché ma io veramente sono convinto di queste cose perché nel sud Italia non abbiamo l'acqua neanche per bere un altro poco ma figuriamoci innaffiarci il prato inglese il prato inglese si chiama inglese perché va bene in Inghilterra dove piove tutti i giorni va bene pure in Svizzera in Germania dove piove ogni settimana qui il prato inglese se lo vogliamo fare può essere fatto dello stesso tipo però anziché verde deve essere giallo un bel tappeto di piante rasate corte 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 che d'estate vanno in estivazione seccano e restano gialle bisogna accontentarsi non fa niente che è giallo però è un prato e si chiamerà prato meridionale il prato del Mediterraneo se non vogliamo prato italiano insomma perché in pianura padana lì pure fresco possono andare bene ok quindi il bello di questo l'indicazione che voglio darvi in questo senso è quello di trovare la soluzione perché la soluzione c'è in tutti i casi anche come mi chiedeva prima di far crescere i kiwi in una pineta che è una situazione un po' difficile ma si può fare ci si può arrivare il pino può fare da supporto per i kiwi se può irrigare e se i pini sono abbastanza messi in modo distante da avere in modo che la luce arrivi sulle foglie dei kiwi perché anche il kiwi ha bisogno di luce almeno sulle foglie sommitali altri esempi di giardino foresta vedere queste foto io mi rendo conto che anche quando le ho montate sembrano delle accozzaglie in cui non si capisce niente e in realtà però queste accozzaglie che non si capisce niente se ci pensate assomigliano in miniatura è una foresta tropicale la foresta tropicale è un insieme di piante che anche per me per il naturalista non ci capisco quasi niente perché non le conosco in un ettaro 10.000 metri quadrati di foresta tropicale ci sono più specie di piante di quante ce ne sono in tutta Europa è pazzesco io ho detto queste cose no queste cose le scrivono sui libri mica è vero e ci sono andato in Amazzonia ci ho trascinato mia moglie in viaggio di nozze e beh ragazzi era vero era vero camminavamo con una guida che parlava mezzo portoghese mezzo spagnolo che per capirsi facevamo come gli indiani con i gesti ma era una persona molto docile molto dolce come carattere e quindi si cercava di farsi capire senza che conosco il portoghese ma si riusciva a capire perché tra l'altro in portoghese ho scoperto che c'erano dei termini quasi simili al nostro dialetto le sementi degli albi diceva e sembrava un dialetto italiano e ci ha spiegato quello che io avevo imparato dai libri che era vero che abbiamo camminato per chilometri in questa foresta e a ogni passo cambiavano gli alberi abbiamo fatto qualcosa come tre chilometri per arrivare a un albero di una palma che aveva dei frutti grossi come una noce e non erano commestibili i frutti erano commestibili le larve che stavano all'interno del frutto e questo l'ha preso col macete l'ha rotto contro l'albero era tirata una larva che era come una bella caramella solo che si muoveva era bianca succulenta e se l'è mangiata e poi adesso la volevo assaggiare e guarda che ci ha voluto coraggio io non avevo fame in quel momento ho detto no grazie però se avesse avuto fame io me la mangiavo perché tanto era una larva tirata da lì ma ci vuole fame perché quando si ha la fame non si guarda più tanto per il sottile e la fame è una brutta bestia insomma ma è un altro paio di maniche e beh sta palma lui la conosceva da quando era piccolo aveva 60 anni e dice che quando lavorava in quei campi in quelle piandagioni là intorno nella foresta si recava presso questo albero dove prendeva una manciata di larve un po' di frutta da qualche altro albero che un guello tirava tutta la giornata questa era sussistenza sopravvivere con gli elementi della foresta e doveva fare un sacco di strada per arrivarci perché la palma era lontana e tra l'altro altra cosa che non credevo nelle foreste tropicali c'è un enorme groviglio di vegetazione io pensavo che gli alberi crescessero velocemente alcuni crescono velocemente ma non tutti queste palme che producono dei frutti grossi come le noci sono lentissimi sta palma era alta quanto questa parete 5 metri e lui mi ha detto che aveva un'età stimata di 400 anni e per capirci io dicevo ma possibile 400 ho scritto vicino a 4 0 si 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 faceva proprio 400 diceva lui poi mi ha fatto vedere una pianta di 20 anni di quella stessa palma ed era un cespuglio alla base del terreno aveva solo un ciuffo di foglie come una cigas come le nostre piante d'appartamento quella ha detto che aveva 20 anni quindi hanno una vita lunghissima lentissima non c'è proprio l'orologio in natura non esiste la frazione tempo non esiste esiste solo la pazienza e alla fine però i risultati ripagano ripagano sempre altri esempi quelli che dicevo delimitati con i vialetti o dove è possibile qualche vasca con l'acqua perché poi lo vedremo anche nelle tecniche di aridocoltura ho fatto un piccolo accenno mi sono un po' appropriato di quello che vi dirà Angelo con delle tecniche nuove per mantenere l'umidità nel suolo o nei dintorni ah tra l'altro lo vedremo anche tra i vantaggi le piante creano una mitigazione del microclima si dice cioè sempre esempi facili facili ed estremi se tu hai in terreno un uliveto o un mandorletto esposto al sole d'estate non ci puoi stare sotto all'ombra di quella pianta comunque fa caldo ma se crei una situazione del genere all'ombra starei bene cosa significa? significa che la temperatura è scesa di qualche grado qualche grado è come aver innescato un sistema dove con la traspirazione delle piante hai un po' di umidità in più nell'aria hai abbassato la temperatura e una cosa è stare a 40 gradi e una cosa è stare a 35 anche quello può essere un vantaggio adesso andiamo velocemente ai componenti i componenti sono uno di quei rami che vi avevo detto all'inizio quelli di partenza che avevo già accennato primo componente il sole e l'acqua insieme al prossimo componente l'anidride carbonica fanno tutta questa grande funzione che si chiama fotosintesi e cosa dà la fotosintesi? energia e zuccheri oltre che ossigeno ecco dove è andato a finire? acqua CO2 e ossigeno eccolo qua l'ossigeno è un prodotto di scarto per le piante le piante producono ossigeno spontaneamente come noi produciamo anidride carbonica mentre respiriamo CO2 ho preso queste queste qua perché sono indicative per dare un po' un'idea da dove proviene la maggior parte della CO2 ma proviene anche dagli allevamenti anche dalla fermentazione dell'etame degli allevamenti oltre che tutti gli scarti che ci sono dalle produzioni agricole e in queste diapositiva si vede una cosa particolare questo è il planisfero terrestre qua si vede Sud America qua c'è un po' l'Africa l'Europa è qua sotto il Nord America è qua sotto queste fasce colorate di colore giallo e marrone sono le zone dove si produce maggiore quantitativo di anidride carbonica che poi grazie ai venti e alla rotazione terrestre viene sparpagliata a destra e a sinistra a est e ovest nella fascia boreale e a est e a ovest nella fascia australe solo che nella fascia australe è minore la concentrazione perché ci sono minore quantità di continenti minore quantità di industrie e di attività umane all'equatore sembra pulita la situazione ma in realtà ci sono altri gas che si vanno a accumulare lì per un effetto della rotazione terrestre l'anidride carbonica prima viene sparpagliata con delle fasce tutti intorno e poi viene distribuita piano piano dai venti quelli che sono i moti convettivi advettivi cioè i cicloni e gli anticicloni che catturano queste sostanze le trascinano verso l'equatore oppure verso i poli poli ed equatore poi diventano a loro volta successivamente zone d'accumulo e quindi si sparpaglia dappertutto qualsiasi prodotto che noi immettiamo in atmosfera finisce dappertutto altra cosa interessante è che la terra visto che ci siamo ruota ha una velocità pazzesca 36.000 km orari all'equatore una velocità enorme per questo i bambini quando mi chiedono ma io con l'aereo non posso andare sulla luna e alla fine ci ho dovuto riflettere all'inizio ma perché l'aereo non pare sulla luna all'inizio vabbè dici vabbè perché non ha ossigeno ok te lo porti nella riserva e dopo non ci riesce ad andare lo stesso perché l'aereo ha 2.000 km all'ora non può uscire dall'atmosfera quella gira a 36.000 km all'ora e allora ci vuole un razzo che vada più veloce infatti i razzi che vanno in orbita vanno a 38.000 km orari se no non escono dall'atmosfera la terra mentre gira se li porta con sé quindi ruotano pure l'oro nell'atmosfera è pazzesco ma è così immaginate i gas che produciamo e tutto il resto a proposito a proposito a proposito l'anidride carbonica faccio una parentesi e volevo considerare un altro punto che spesso viene trascurato nei nostri piccoli ambienti grandi o piccoli che siano spesso si tende a fare pulizie perché si associa l'orto il giardino specialmente il giardino come un'altra estensione del salotto sbagliato modestamente mi permetto di dire che è sbagliato perché il salotto lo puoi pure disinfettare con la mucchina che già è più che sufficiente ma il giardino non va disinfettato e sterilizzato quando abbiamo degli scarti è meglio lasciarli in muccio in un angolo è meglio lasciarli marcire da soli o interrarli che costa fatica piuttosto che quella pratica agricola che si fa su larga scala di bruciarli perché se li bruci li trasformi da componente organico assimilabile dalle piante hai fatto un'anidride carbonica che già ce n'è tanta e poi hai fatto anche altri gas tossici che sono difficilmente captabili e li sparpagli in tutta l'atmosfera invece se ti tieni il tuo mucchio di detriti lì se lo assorbono le tue piante e lo ricicli nel tuo ambiente tra l'altro in modo molto discreto economico e vantaggioso mi rendo conto che questo è complicato perché su larga scala nei campi di grano dove si mette grano oggi grano quest'anno e grano l'anno prossimo per sterilizzare il campo dalle infezioni dai parassiti e da quant'altro si bruciano le stoppie poi ultimamente è stato vietato perché si erano accorti che questo non funzionava però comunque è un problema è un problema quello di bruciare peggio ancora sempre per i miei clienti e le persone dove agisco che hanno mentalità molto variegate rispetto alle nostre è quella di dire vabbè ho fatto un po' di pulizia c'erano due cartoni un po' di plastica e delle ramaglie peggio del peggio perché la plastica produce diossina vedete come può essere micidiale un comportamento banale ma sì ho fatto un po' di pulizia nell'orto spesso le le terrine di polistirolo dove vengono messe le piantine rimangono ai margini dei campi e poi si fa pulizia fino all'anno bruciando le stoppie dell'orto insieme a quelli di polistirolo e qualche altra busta che il vento ha portato in giro peggio che peggio la plastica va separata meglio lasciarla là a marcire piuttosto che bruciarla però la plastica è antiestetica una busta di plastica appesa a un rovo dà un senso di degrado totale è proprio un'espressione totale di degrado è vero andrebbe raccolta e tolta portata nei contenitori appositi che poi vanno seppellite o vanno dismessi in altro modo lasciamo perdere però non bruciatevela nell'orto non bruciate plastica intorno a voi perché la prima diossina che producete ve la respirate voi mentre controllate il fuoco e la seconda diossina ve la mangerete sotto forma di diossina sparpagliato sui vostri ortaggi è un gas velenosissimo un odore in colore come l'anidride carbonica ma molto più tossico rimane nel sangue per alcune settimane ai ragazzi a scuola dico sempre voi bruciate la plastica nel vostro orto poi vi andate a fare le analisi dopo una settimana ancora avete la diossina che vi sta inquinando il sangue perché una settimana prima avete bruciato della plastica e siete stati vicino al fuoco a giocare se proprio si deve bruciare separate la plastica eccolo qua un altro componente abbiamo visto quelli che venivano insomma da sopra questo invece è un componente che sta sotto il suolo il suolo è inteso spesso dal mondo agrario e agronomico come qualcosa di inerte di inerte di morto lo intendono come un supporto c'è il suolo e ci mettiamo le piante basta poi se il suolo non funziona ci mettiamo i concimi e lì avvelenano tutto e non se ne capisce più le piante dicevo ieri con un amico una frase comune che condivido le piante concimate sono come le piante drogate il concime per le piante è come una droga gli dai il concime sì parte la pianta ti fa uno sprint ti fa una crescita ti fa una produzione ma poi ne ha bisogno sempre la devi concimare sempre e le industrie di concimi fanno così dicono bene ho trovato un pollo un altro pollo da spennare perché così dopo sarai costretto a comprare sempre concimi se blocchi la concimazione per almeno un anno degli alberi da frutta vedrai la produzione scendere e poi ti deprimi e dici no meglio vado a comprare concime quindi è come la droga da dipendenza è vero da dipendenza io mi sono trovato in dei casi assurdi dove mi hanno chiamato per delle piante di fico che erano seccati 3-4 piante in un giardino di questi seccati seccati completamente seccati in primavera dove avevano emesso le foglie poi è bellissimo comprendersi con questi problemi delle cause perché le persone cominciano a chiederti delle situazioni più disparate dove non sai da che parte raccapezzarti le piante dice avevano emesso le foglie erano uscite le foglie però tutta una volta è seccato il tronco e seppure spaccato si è divaricato e si sono fatte delle fessure verticali nel tronco di fichi alberi di fichi di vent'anni grossi così sani terreno buono nessuna gelata nessun problema il gelo poi screpola la corteccia fa alzare la corteccia degli alberi non spacca il tronco ha detto ma che cavolo è successo qua veramente non riuscivo a capire niente tronco spaccato piante seccate ha detto ma per caso gli hai detto di concime ah si si gli ho dato un po' quanto un po' ah gli ho dato poco due manciate di nitrato ogni pianta due manciate di nitrato messo vicino vicino al fusto le ha avvelenate e le ha fatte seccare con l'eccedenza di concime perché il concime è come un medicinale lo assumiamo se ce n'è bisogno o in caso di particolare necessità ma se prendiamo tutta una convizione anche di aspirine penso che non fanno tanto bene è un medicinale quindi più lontano si sta dai concimi meglio è in situazioni estreme ci si può anche arrivare con un concime più biologico con qualche sostanza un po' intermedia però è da fare molta 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 attenzione purtroppo le giuste chimiche devono vendere e i concimi li rifilano pure nei supermercati ormai si vendono dappertutto e si avvelena il suolo questo qui allora dicevo non è un supporto come dicono gli agronomi un supporto inerte adatto alla coltivazione delle piante questo possiamo anche chiamarlo supporto ma è un supporto vivo il suolo è vivo è fatto di elementi inerti ma anche di elementi vivi interagiscono stanno bene tra di loro vanno perfettamente d'accordo e gli elementi che li compongono mi riferisco un po' agli elementi animali i microorganismi e un po' anche ai batteri i funghi i virus non sono tutti dannosi non sono tutti i virus che fanno venire virosi alle piante ci sono anche virus batteri e quant'altro che vivono nel suolo perché danno la possibilità alle piante di assorbire minerali andiamo avanti vediamo se dimmi dimmi aspetta che ti do il micro gli ultimi concimi per chi fa anche agricoltura di un certo livello no? perché adesso superata la chimica selvaggia o l'agricoltura intensiva quella diciamo di basso profilo gli ultimi concimi quelli che veramente sono al top che possono permettersi le aziende che commercialiscono sono tutti degli attivatori ah ecco degli stimolatori vanno a dare stimolatori quindi ci si sta rendendo conto dopo aver fatto 30 anni di distruzione che c'è bisogno di dare questo che non è altro quello che noi agricoltori volgamente chiamiamo i terreni vergini vergini perché ci sono tutti questi elementi che entrano in relazione e danno la sanità della pianta ed è buono perché c'è un motivo in più che tutti gli agricoltori si impegnino a possono riflettere certo sul fatto che questi anche se sono arrivate le case farmaceutiche la Bayer e quant'altro che producono queste cose che spontaneamente esistevano già nei terreni questo è una cosa positiva che volevo dire hai perfettamente ragione perché persone come noi a tutti i livelli ovunque andremo ad agire saremo un po' come dei pionieri a me per questo dicevo stamattina prima che arrivasse mi fa piacere che siamo tanti perché è bello che siamo tanti perché ce n'è tanto bisogno di queste conoscenze a tutti i livelli sia nelle coltivazioni intensive che mi diceva Gianluca e sia in altre coltivazioni di altro tipo dal nostro piccolo orto all'interno delle mura domestiche fino alla grande coltivazione c'è bisogno di queste conoscenze perché il suolo questo elemento qua sfrutta oggi sfrutta domani poi c'è collassa e non ci sono sostanze chimiche che riescono sempre a compensare quest'anno si è persa la gran parte della produzione nella zona di Gliar che è una zona che produce reddito per ruva da tavola perché si è visto che aumentare i chicchi spinti in modo chimico artificiale diciamo così con le forti escursioni termiche che abbiamo avuto quest'anno la membrana cellulare della buccia della buccia e dei chicchi si spaccava e quindi sono andate perse migliaia e migliaia di quintali per questo motivo noi che giù diciamo nell'arco ionico abbiamo avuto prima il problema con un amico stavamo facendo delle prove degli esperimenti e abbiamo fatto le varietà pirene quindi coperte di uva che comprano ai massimi livelli diciamo estremo dei commerciali fatte soltanto con trattamenti di alghe naturali quindi tutte sostanze naturali e di sostanza organica di alta qualità data al terreno ha permesso di avere un frutto leggermente più piccolo ma sono venute a tagliare delle varietà di uva che dovevano essere raccolte a giugno e le hanno tagliate i primi di settembre perché ha aumentato la resistenza la capacità di conservazione quindi è positivo tutto questo perché per forza di cosa la natura arrivata a questo punto ci sta gridando in faccia che non si può andare a fare questa estremizzazione non va da nessuna parte c'è solo bisogno che chi come noi si interessa di queste cose le promuova a dare quello che dice ma dunque allora hai notato perché ci fanno dare questi concimenti hai notato che ci sono queste conseguenze se si stressa troppo la pianta bisogna aggiornarsi continuamente in questo campo e quello che dici tu si chiama promozione che spesso non viene fatta anche per motivi commerciali però è importante ragionare e riflettere su questo perché la natura ti dà i problemi ma ti dà anche le soluzioni è giustissimo ed è molto saggio qui c'è un allora il nostro caro amico suolo come si è formato il suolo c'è una sezione e una successione vegetazionale sezione nel senso che è stato tagliato verticale successione vegetazionale perché si va come leggiamo sui libri da sinistra verso destra a sinistra c'è solo uno strato erbaceo sottilissimo che poi erbaceo non è perché mano a mano che passa il tempo aumenta il livello delle piante sempre più alto perché è aumentato lo spessore del suolo e io aggiungo è aumentata anche la quantità di specie distribuite per metro quadrato l'estremo delle quantità di specie è quello che vi dicevo della foresta tropicale in un ettaro tantissime specie più di quanto ce ne sono in tutta Europa e a proposito in tutta Europa ci sono circa 250 specie di alberi solo 250 tutta l'Europa in una foresta tropicale ce ne sono più di 250 in un solo ettaro si parte dalla roccia nuda la roccia nuda dovete immaginare per esempio dopo un'eruzione vulcanica quindi quella lì che viene fuori da un'eruzione vulcanica è roccia nuda in condizioni naturali normali perfette la roccia la lava si solidifica diventa roccia a volte per raffreddarsi impiega degli anni sembra strano ma la lava si raffredda velocemente all'esterno ma rimane calda all'interno e per raffreddarsi all'interno a seconda dello spessore ci può impiegare anche 15 anni partiamo dalla lava si raffredda sulla lava raffreddata dopo alcuni decenni cominciano a crescere i licheni i licheni ve li farò vedere crescono anche sui tronchi degli ulivi sono delle simbiose tra un'alga e un fungo alga e fungo microscopico fungo non dobbiamo intendere solo il nostro fungo con il cappello da fungo porcino i funghi crescono sotto forma di filamenti di ife che si snodano nel terreno sotto le pietre dovunque c'è umidità e condizioni idonee questo fungo microscopico vive in simbiosi con un'alga pensate un po' un'alga che dovrebbe stare nel mare e invece si sposa con questo fungo e attacca le rocce nude le attacca e ci vive perché? perché lei ha bisogno di sole piena illuminazione e non può competere con l'ombra di altre piante e poi si accontenta di poco quest'alga fungo il lichene vive con il pulviscolo atmosferico quel poco di pulviscolo che passa nell'atmosfera con quelle piogge che a volte portano terriccio dal deserto quando si dice che ha piovuto terra con quelle frazioni piccolissime riescono a sopravvivere e con i loro organi di aggancio che sono delle strutture di aggancio simili a delle radici ma non sono delle vere radici riescono a mantenersi strette e aggorate a questa roccia e la cominciano a disgregare a frantumare perché emettono degli acidi le sostanze acide dopo i muschi e dopo alcuni decenni in condizioni normali di clima diciamo della fascia nostra temperata quindi Italia centro Italia sud Italia e così dopo alcuni decenni sono passati almeno 70 80 anni per dare dei numeri indicativi cominciano a crescere i muschi il muschio è una pianta verde è una pianta come gli alberi ma di dimensioni minion per sintetizzare ha tutte altre funzioni riproduzioni molto complesse non fa i semi ma fa le spore e tutta un'altra storia però diciamo è una pianta già ben organizzata rispetto al lichene e siamo ancora qui siamo ancora qui mi sa che è tutto sfocato non si legge niente vabbè ve lo commento perché tra il computer e il proiettore ci sarà stato qualche problema abbiamo ancora i muschi dopo i muschi e passeranno altri ah grazie se non riesce proprio vabbè vabbè forse va regolato per il computer ma non lo so ve lo commento tanto sono poche indicazioni veloci allora dopo almeno 150 anni che sono cresciuti i muschi arrivano le graminacee le graminacee sono le piante tipo la gramigna o tutte quelle erbe che fanno dei rami lunghi delle foglie lunghe e con nervature parallele come la gramigna l'orzo selvatico l'estremo di una graminacea sarebbe l'orzo il grano la vena il mais è una graminacea gigantesca ma è una graminacea anche il bambù è una graminacea gigantesca pure quella ma è un'erbacea considerata una pianta erbacea anche se è un fusto durissimo le graminacee cominciano a crescere qua a seconda delle condizioni delle fasce tropicali le fasce climatiche dove ci troviamo se siamo ai tropici può crescere per esempio c'è umidità il bambù che è una graminacea bella grossa bella grande ma se siamo in Italia cominciano a crescere piante del tipo della gramigna e siamo a 150 anni dalla roccia nuda se nessun disturbo avviene non c'è per esempio un'altra eruzione non c'è incendio non ci sono sballi di temperatura e quant'altro poi cominciano le piante erbacee che non sono più le graminacee ma quelle che si chiamano le graminacee tra l'altro sono chiamate monocotiledoni perché quando nascono sono provviste di un solo cotiledone eccolo qua questa è una monocotiledone quando nasce dal seme esce una sola foglia mono una e queste monocotiledone sono il grano altre graminacee che formano i prati quelle sempre con le foglie e nervature parallele ma anche delle monocotiledoni gigantesche come le palme le palme sono delle grandissime grandissime monocotiledoni e quando nasce la palma non so se l'avete mai vista fa una sola foglia poi dopo un anno esce un'altra foglia e cresce così lentamente quindi queste sono le monocotiledoni questi qua gli alberi gli arbusti e gli altri ortaggi quando nascono formano due foglioline dal seme come il fagiolo che si fa alle scuole elementari quell'esperimento che fanno i bambini che si fa nascere il fagiolo si fa germogliare il fagiolo o la soia dentro l'ovatta e mette due cotiledoni e poi da questi due parte il germoglio principale queste piante sono un po' più per virgolette esigenti quindi vengono dopo dalle monocotiledoni allora dopo le monocotiledoni e le monocotiledoni cominciano a crescere sempre specie diverse in quantitativo diverso cosa era successo qua? era successo che i muschi e le graminacee hanno cominciato a formare e accumulare detriti sul suolo loro stesse seccando e le loro porzioni seccando restano sul suolo insieme ai microrganismi più composti vegetali ci sono più microrganismi arriveranno più microrganismi arriveranno più suolo si formerà in base sembra le fasce le fasce climatiche per di per contro per eccesso se un clima è piuttosto fresco o freddo tipo nord Italia nord Europa si accumula di più l'humus perché con il freddo non c'è una trasformazione veloce e immediata per estremo all'equatore ai tropici nelle foreste tropicali l'humus ha uno strato nelle foreste di 4 dita così 10 cm eppure c'è degli alberi di 70 metri perché 4 cm perché la temperatura è alta l'umidità è alta e i decompositori i microrganismi mangiano tutto e dicompongono tutto velocemente e ce n'è bisogno di un apporto enorme per supportare tutto quel sistema ecco perché lì se si interviene succedono le catastrofe perché se si toglie quell'albero viene dilavato quel poco che sta a terra e desertifica in 10 anni è quello che sta a succedere e altro che allora quindi si ha questo accumulo maggiore la quantità di piante maggiore i microrganismi maggiore lo spessore quando lo spessore ha raggiunto qui è un disegno diciamo esagerato ma quando lo spessore ha raggiunto una certa profondità gli alberi diventeranno sempre più alti sempre più grandi questo lo ritroveremo più avanti a proposito della macchia mediterranea a proposito per esempio dell'olivastro l'olivastro è un olivo selvatico che è diverso dall'olivastro con la V è diverso dall'oleastro forse mi sono sbagliato l'oleastro che è un olivo selvatico nato da seme e fa dei frutti piccolissimi utilizzabili per l'olio e quant'altro commestibili ma molto piccoli riesce a crescere anche sulle rocce ma crescendo sulle rocce è come se quest'albero andasse a crescere qui anticipa un po' il corso dell'evoluzione naturale anticipando il corso dell'evoluzione naturale cosa gli succede? gli succede che rimane piccolo e forma la macchia mediterranea alberi o arbusti che dovevano essere 10-15 metri saranno alti 2 metri sta anticipando il processo perché gli alberi cercano anche loro di darsi da fare però rimane di 2 metri quando invece in condizioni profonde un terreno profondo come questo con un metro di spessore lo stesso albero potrebbe diventare 12-15 metri andiamo avanti altri componenti altri componenti sono questi qua quelli invisibili io li ho separati questi qua da quelli più grandi i microorganismi del suolo possono essere funghi batteri vitus protozoi amebe e quant'altro sono tutti quei componenti che non sono visibili a occhio nudo ma sono indispensabili tali e quali alle piante che noi teniamo al di sopra del livello del suolo invece questi qua sono altri componenti di tipo diverso cioè micro e macro fauna micro fauna tu la vedi la micro fauna sono tutti questi qua che stanno qua sopra sono tutti qua sono alcuni rappresentati qua sopra e sono quelli visibili a occhio nudo cioè sono gli insetti per farlo a questo allora la differenza tra questo e questo è che comunemente questo ha meno zampe anche se sono una trentina di zampe in realtà questo si viene chiamato scolopendra o centopiedi questo qua viene chiamato millepiedi ma non ce n'ha mille ce n'ha un po' di meno è una denominazione un po' per i bambini tipo cartone animato centopiedi e millepiedi è fatto scutigera è questa è molto simile a questa è molto simile sarebbe complicato anche per me farla distinguere perché è molto simile solo che ha le antenne di lunghezza diversa le zampe diverse comportamento e quant'altro ma è molto simile a questa è anche molto simile a questa pur la scolopendra ma se ci attendiamo nel mondo degli insetti non si finisce più questo qua lo conoscete cos'è? bravo c'è un naturalista intrufolato questo è un grillo tal l'animale praticamente ha le zambe anteriore la parte anteriore che assomiglia a una tal e dietro è come se fosse un grillo come questi qua è un insetto in realtà non è sicuramente un mammifero ma svolge pure la sua funzione molto egregiamente specialmente quando comincia a tagliare le radici delle piantine di pomodoro fa certi servizi però poi c'è la macrofauna la macrofauna si parte dai piccoli dai piccoli roditori dai piccoli uccelli ad andare su micro e macrofauna le ho separati per dimensioni dimmi questo? no quello si questo si mangia la radice ma aspetta però le piantine erbacee pomodori insalate lattuga questa roba qui non gli alberi no solo piccole piantine erbacee altri componenti eccoli qua quelli di cui abbiamo parlato largamente le piante queste sono le piante famose della gariga o della macchia distrutta quando cominciano a crescere in ambienti quasi di savana dove ci sono piante con le foglie argente queste foglie argente servono a riflettere la luce del sole hanno una patina di cera e la cera è di colore argenteo perché serve a riflettere la luce del sole ed evitare l'evapotraspirazione queste qua sono le piante più resistenti in ambiente mediterraneo per non perdere acqua così anche la peluria che sta sulla foglia della salvia oppure degli oli essenziali che ricoprono e anzi ricoprono ma internamente la foglia del rosmarino il rosmarino basta toccarle ma ne è quell'odore quell'odore serve a proteggere la disidratazione della pianta perché vive in ambienti molto difficili dalle piante dicevo della gariga macchia mediterranea da arrivare gli alberi tutti quanti le piante sono i nostri componenti e questa è la fine della lezione di stamattina con questa ricapitolazione abbiamo visto il nostro ecosistema che sembrava complesso e quant'altro l'abbiamo scomposto e qua c'è l'elenco di tutti questi componenti che sono quelli essenziali da cui partiamo sole acqua anidride carbonica suolo e sono i primi te li ho messi in ordine diciamo di interazione microorganismi micro e macro fauna e piante mettiamo insieme tutti quanti questi qua e possiamo partire con il nostro ecosistema che continueremo a vedere più avanti però vi annuncio già che dopo questi componenti vi farò una lezione oggi pomeriggio prima della passeggiata sulle fasce climatiche e sulla fitogeografia cioè sulla distribuzione delle piante io ho messo questi elementi perché può essere utile tenerli in considerazione per quelle domande che il nostro amico ci faceva prima posso mettere i pini posso mettere i kiwi sotto i pini allora dando delle nozioni non dico che tutti possiamo diventare bravi dalla sera alla mattina però possiamo cominciare a pensare forse fammi vedere se questo ragionamento può funzionare o se c'è da considerare qualche altro fattore bene in questa lezione parleremo dell'organizzazione spontanea delle specie vegetali perché ci allacciamo al discorso di questa mattina dove avevo anticipato dicendo che le specie vegetali sembra che vivono così alla rinfusa ma in realtà si organizzano e competono per i fattori nutritivi specialmente quale può essere la luce e i nutrienti in un modo molto agguerrito ci sono delle specie vegetali che sono caratteristiche formano sempre le stesse associazioni vivono sempre negli stessi ambienti addirittura sono degli indicatori di alcuni ambienti e questo vale specialmente per i grossi alberi che sono facilmente individuabili oppure per alcune piante erbace tipiche come possono essere i fiori dei prati dalle orchidee al fior d'aliso hanno necessità specifiche queste associazioni questi alberi per cui un ambiente non disturbato è indice di certe specie un ambiente invece disturbato come avevo accennato prima a proposito dei serbanti è indice di altre specie noi quelle che andiamo a considerare in fitogeografia sono le specie spontanee quelle che crescono da sole per condizioni naturali sono delle specie che coabitano coesistono convivono fitogeografia parla della distribuzione di queste specie a seconda dell'altitudine i piani più in alto in montagna più in basso o della latitudine o della longitudine quindi le piante fito sulla geografia come sono distribuite sulla superficie della terra si può partire dalla distribuzione delle piante dall'equatore verso i poli o dai poli verso l'equatore ma hanno sempre determinate distribuzioni per istinto già da piccoli sappiamo per esempio che gli abeti vivono in montagna e quella è anche fitogeografia le palme preferiscono vivere in zone più calde sappiamo che stanno nelle oasi o nelle zone più marine fitogeografia distribuzione delle specie vegetali in base all'altitudine all'esposizione poi subito dopo insieme in contemporanea c'è la fitosociologia cioè come le specie vegetali si organizzano e vivono insieme tra di loro perché non solo sono distribuite in un certo modo ma sono anche organizzate in un certo modo la fitosociologia è qualcosa di quello che avevo già parlato stamattina a proposito dell'organizzazione che riguarda gli strati vegetazionali quello è fitosociologia come vivono insieme quali sono le specie che riescono a vivere all'ombra e quale invece quelle che stanno in alto e hanno bisogno di luce guardando i sistemi naturali si può osservare è importante osservare e si può trarre delle deduzioni per cercare di ricostruire nel nostro piccolo orto dei sistemi artificiali nel nostro ecosistema quello che avevo fatto vedere stamattina allora questo perché perché è importante quando andiamo ad agire in un determinato posto è importante non correre certi errori grossolani del tipo quegli esempi che dicevo prima a proposito del mirtillo pretendere di coltivare delle piante in certi posti dove è molto difficile farle crescere io non voglio usare il termine impossibile perché in natura impossibile è estremo non c'è quasi niente di impossibile le piante si riescono a far crescere anche sui terrazzi delle case o anche il mirtillo in riva al mare però poi è il costo che bisogna sopportare per farle crescere costo non intendo economico costo intendo il costo di tempo di energie di impegno che ci dobbiamo riversare per questa piantina o queste piantine che siano allora si comincia dalle aree climatiche d'Italia questa è una cartina con dei colori a parte molto belli ma sono dei colori indicativi che dicono subito dalle tonalità più calde a quelle più fredde come può essere il clima in Italia subito riconosciamo l'arco alpino con climi più freddi poi la pianura padana tutto lo stesso clima di tipo subcontinentale clima subcontinentale significa freddo la nebbia tutte quelle cose che c'hanno là in Padania poi c'è quello che interessa a noi sono questi colori più caldi qua scherzo perché mi piace scherzare sulla nostra Italia tra l'altro l'Italia è bellissima è l'unico stato al mondo che ha questa forma così bella e unica e bisogna essere anche orgogliosi tra le tante cose che abbiamo e va bene allora quello che interessa a noi sono queste fasce molto calde subtropicale io quando andavo alle scuole medie elementari giudici non c'era la fascia subtropicale nelle aree mediterranee il clima più caldo di queste fasce qui della Sicilia Calabria Puglia e Sardegna e parte qua anche della Campania erano mediterraneo caldo poi c'era mediterraneo temperato mediterraneo interno dove sto io in Basilicata e mediterraneo caldo che era quello degli agrumi dove crescevano dove c'erano le piantagioni di agrumi quindi grandi estensioni di agrumi oggi già è un termine nuovo subtropicale e non è una forzatura non è una sciocchezza è un aggiornamento a quello che è avvenuto perché in queste fasce calde oltre gli agrumi si possono coltivare delle piante subtropicali come per esempio il mango l'avocado la fejoa e qualcun'altra che la vedremo successivamente la Puglia indicativamente sembra avere tutto lo stesso clima tranne il Gargano questa piccola isola gialla che ha un clima di tipo subcontinentale il Gargano è un po' più in alto e ha un clima un po' più fresco perché c'è anche una piovosità più fresca ma andiamo nel dettaglio ancora avanti a proposito dal clima si passa alla vegetazione se più o meno riuscite a ricordare questi colori come sono distribuiti le coste la sila l'etna con i nebrodi l'appennino e poi queste isole più fredde che sarebbero i monti del Gran Sasso e della Maiella e poi l'appennino questo è l'appennino di Torra Massa Carrara l'appennino settentrionale allora come sono questi colori? in modo molto simile troviamo la vegetazione eccola qua la stessa storia vegetazione che ripercorre le stesse quote la parte calda con i colori ancora caldi la parte fredda con i colori verso il blu e il verde e abbiamo di nuovo questa volta l'etna qui è comparso anche la spromonte la sila più fresca tutto l'appennino calabro lucano e campano qui dentro c'è il pollino poi i monti dell'Abruzzo e i monti dell'appennino settentrionale che sono diventano un'unica catena con le alpi con le prealpi quindi significa che la vegetazione che sta in queste parti blu è pressoché la stessa su tutta la fascia blu la vegetazione della parte rossa è la stessa su tutta la parte dello stesso colore rossa qui manca il gargano è una cartina quindi è molto grande c'è tutta l'Italia non è stata molto precisa ma il gargano dovrebbe avere un'isoletta verde come questa qua dell'appennino e come anche la Sardegna centrale altre isole da vedere sono queste isole gialle quindi più calde a nord addirittura a nord della pianura padana e i laghi bravi questa è la zona dei Colle Euganei poi il lago di Garda il lago di Come e compagnia e nonostante siano così a nord e nonostante siano all'interno il microclima prodotto da questi grandi laghi permette addirittura la coltivazione di agrumi in vaso e l'ulivo quindi qui si possono coltivare gli ulivi tale e quale come lungo le nostre coste e quindi dicevo ripetendo sempre la vegetazione che rispecchia che ripete la distribuzione e l'altitudine delle nostre montagne altra carta più dettagliata della vegetazione quella era grossolana dava un'idea di massima qua andiamo nel dettaglio eccolo qui è comparsi il gargano e soprattutto abbiamo visto che in Buglia adesso ci sono tre fasce climatiche e abbiamo la fascia climatica del faggio che rappresenta solo erano delle piccole zone del gargano qui appena 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 poi c'è la fascia c'è il sole del leccio e dell'oleastro e del carrubo la fascia del leccio questa verde carrubo e dell'oleastro questa quasi arancione scuro e poi la fascia della roverella e della rovere nella fascia della roverella e della rovere sarebbe tutta quella parte interna dell'altopiano diciamo dove c'è Martina Franca e ci sono i boschi di Fragno queste fasce vengono date come indicazione poi quando si va qui in Puglia non troviamo la rovere ma troviamo la roverella e il fragno che si sostituiscono ma la fascia è la stessa perché il fragno quest'altra quercia non so se la conoscete ha le stesse caratteristiche ha le stesse esigenze o molto simili le esigenze della rovere anche se la rovere la troviamo in posti un po' più in alto più nell'appennino la fascia gialla questa qui corrisponde corrisponde presso a poco a quella che era l'antica lecceta della macchia mediterranea alta dove c'erano questi lecci che fino in epoca romana erano alti da 30 a 40 metri ed erano i lecci che sono stati utilizzati per primi per costruire la famosa flotta romana quindi legno pesante duro compatto resistente che se immerso in acqua non marcisce ma essendo impregnato di tannino è un legno che dura molto a lungo infatti i resti di navi romani che sono state trovate affondate qua e là sono analizzate che sono fatte appunto di legno di leccio erano le prime foresti che sono state abbattute poi ci si è spostato all'interno e il leccio è stato sostituito con la rovere e con la roverella la roverella ha un buon legno ma non ha venature dritte e spesso la venatura è a spirale per cui non può essere utilizzata facilmente in carpenteria navale invece la rovere ha delle venature perfette tutte dritte infatti le usano per fare le famosi botti di rovere avete presente le strisce le doghe delle botti che sono belle dritte così come sono dritte dopo la lavorazione anche le venature all'interno sono dritte allo stesso modo per cui il legno non si deforma non si distorce ed è utile adesso per fare le botti ma una volta era utile anche per le navi e allora abbiamo queste fasce vegetazionali è una cartina anche questa abbastanza grande non ho trovato una cartina più dettagliata della vegetazione solo per la Puglia ma indicativamente ci si può rendere conto che a seconda di dove si abita si può già scegliere in partenza le piante più adatte per le proprie zone abbiamo la fascia dell'oleastro e carrubo state tranquilli vanno bene gli agrumi sempre se c'è l'acqua per innaffiarli perché gli agrumi hanno bisogno di almeno un quantitativo di acqua indispensabile all'ingrossamento dei frutti se no dopo l'allegagione dopo il momento che i fiori formano il frutticino o cadono o restano piccoli come palline e un'arancia piccola come palline insomma un po' bruttina come cosa e ci vuole dell'acqua per permettere l'ingrossamento dei frutti perché l'arancia sembra una pianta di clima subtropicale caldo piovoso qui invece è subtropicale ma quello che non ho aggiunto è un subtropicale asciutto i temporali a volte avvengono sì ma sono sporadici non sono dei temporali subtropicali di origine degli agrumi quindi gli agrumi in tutta questa fascia qua dove c'è l'oleastro e il carrubo la parte gialla corrisponde invece a quella che potrebbe essere la fascia ideale per l'ulivo ma insieme all'ulivo sappiamo va bene anche la vite noce ciliegio pesco dove il terreno è fresco mandorlo e tutte le piante che già abbiamo nel nostro territorio sono ben inserite tutte quelle che ci sono sono ben inserite perché l'agricoltura poi quando si fa su larga scala non permette grossi errori non si può pretendere di coltivare l'arancio in montagna e le castagne in riva al mare diventa complicato non riesci a vendere il prodotto non riesci a produrre per vendere al limite solo in modo amatoriale tendendo una piantina sotto una serra e con tante cure si vedono tutte queste isole che sono le cime le parti più alte dell'appennino questo è il pollino questa specie di grossa virgola che scende verso il basso perché c'è il pollino che è collegato alla catena costiera che è la catena di montagne che arrivano pure queste a 1700-1900 metri e poi c'è la sila invece che è un'isola a parte i mondi della basilicata interna intorno a Potenza a Laurenzana da quelle parti là e poi sembra il solito appennino a salire su con l'abruzzo e l'appennino settentrionale l'etna ha un clima molto simile a quello dell'aspromonte e del pollino e dell'abruzzo nonostante sia così a sud perché l'etna è quasi 3.300 metri o giù di lì e quindi è una montagna un vulcano molto grande e da sola ha formato un ecosistema indipendente da tutto il contesto non gli importa niente che sta così in basso è così alta che può avere un clima fresco come le montagne in Africa che sono così alte da avere la neve anche all'equatore però là bisogna arrivare a 5.000 metri andiamo avanti della Puglia ho trovato queste cartine a proposito delle fasce altimetriche e ci sono delle colorazioni quelle che interessano a noi in questa regione che vanno da 1 da 0 a 100 sul livello del mare tutta la zona della piana di Foggia e i litorali tranne dei piccolissimi rilievi sulla punta qua del Salento e le murge oltre che Gargano e Appennino Dauno l'Appennino della Daunia quello che è il confine con la Campania che arriva ad altezze tra i 500 e i 700 metri il Gargano arriva anche un po' di più ma le isolette si vedono appena appena in questo punto che arriveranno intorno a sfiorare i mille metri allo stesso modo come sono distribuite le fasce altimetriche parabafte le temperature zone più basse colori più scuri temperature più calde zone più in alto temperature più fredde queste linee misurano le stesse quote di temperatura in largo modo però ci sono delle eccezioni a volte perché guardate questa parte qua più calda va a concitere proprio all'interno delle murge e non non ripercorre allo stesso modo come era invece come erano le pianure e le montagne questo perché a volte si creano dei microclimi dei microambienti micro ma non tanto micro degli ambienti regionali si parla di clima regionale perché all'interno qui delle delle murge la temperatura arriva più calda perché? perché ci sono dei venti dal marionio che portano quindi calore dal mare e lo portano attraverso questi corridoi tra le colline fino all'interno delle murge non si può dare sempre per scontato che sono in montagna o più fresca a volte anche in montagna ci possono essere delle zone un po' più fredde è da considerare ma in linea di massima queste cartine ci possono dare delle buone indicazioni per non fare grossi errori andiamo avanti le isoiete sono sempre quelle curve di uguale livello questa volta che misurano la piovosità isoiete misurano la stessa piovosità a seconda delle zone è interessante che la punta estrema del salento ha una piovosità maggiore rispetto all'arco ionico cioè sopra Taranto e tutta la fascia che va da Bari fino a Foggia sopra sopra vi sono dimenticati il paese che sta qua Manfredonia sopra Manfredonia poi addirittura tra no qua Manfredonia Manfredonia è qua però Lacedonia Lacedonia forse comunque dove c'è quest'isola ho controllato una cartina geografica e praticamente a ovest di Foggia c'è una zona interna che ha una piovosità minima come l'arco ionico e come la zona qua di Manfredonia e questo pure sembra apparentemente inespiegabile ma in realtà è dovuto sembra alle solite correnti di aria che si spostano il Gargano è un'isola quindi quando le correnti arrivano quest'isola un po' più in alta sopra un tavoliere tutto piatto viene subito ad essere interessata dalle correnti essendo più in alta ci sono anche più alberi catturano l'umidità l'umidità si ferma si condensa e piove di più mano mano che si scende piove di meno al centro di questa pianura praticamente non ci sono correnti umidi tali da portare sufficienti precipitazioni e si è creata come un'isola un po' più asciutta dopo queste cartine lo vedremo più avanti o in altre lezioni non mi ricordo questi punti più chiari guarda caso sono i punti più soggetti al prossimo rischio di desertificazione la desertificazione non è un evento catastrofico tipo da film è un rischio perché se la desertificazione avviene in questi luoghi avviene sempre spesso per cause antropiche cioè troppo impatto dell'uomo troppa vegetazione distrutta troppi campi coltivati con colture estensive del tipo grano il grano fa la fotosintesi quei 5-6 mesi durante il periodo della vegetazione e poi durante l'estate è tutto secco quindi più è secco il terreno più aumenta la temperatura e non c'è mai copertura vegetale a sufficienza queste aree qua diciamo sono quelle un po' più a rischio e chi abita e chi si trova in queste zone deve considerare che una copertura del suolo maggiore sicuramente sarà di ottimo aiuto e di grande utilità per bloccare questi processi di surriscaldamento allora vediamo un po' le associazioni adesso in natura così come sono distribuite una foto che sembra insomma fatta qua dietro e dell'associazione spontanea che c'è tra il fragno questa quercia semidecidua semidecidua significa che il fragno perde le foglie ma le perde a fatica non è una pianta che si spoglia subito ai primi freddi addirittura le foglie le lascia cadere se fa molto freddo e quasi quando è arrivata la primavera perché a volte se seccano le foglie rimangono sull'albero e poi cadono quando escono le foglie nuove quasi come la roverella nelle zone marine perché all'interno invece già le perde un po' prima e cosa troviamo qua troviamo rosa canina e prugnolo non a caso questi cespugli questa è almeno da quello che ho visto era e anzi questa è rosa canina succede una cosa molto non gli è piaciuta forse perché ah già è canina hai ragione gli animali sono suscettibili parliamo del prugnolo il prugnolo che non dà fastidio a nessuno allora queste piante che vivono in questi ambienti queste piante queste piante sono piante spinose negli ambienti dove c'è stata una certa antropizzazione non a caso ho scelto questa volta perché c'è un muretto significa che questo bosco è cresciuto dopo che l'uomo ha avuto degli interventi in questo in questo ambiente cioè ha fatto ha avuto dei campi ha coltivato avrà pascolato poi ha abbandonato abbandonando il tutto sono cresciute queste giovani giovani piante di di fragno e insieme ai cespugli perché i cespugli spinosi perché negli ambienti antropizzati dove c'era pascolo eccessivo o comunque un certo carico di pascolo le querce che erano molto molto facili preda delle pecore delle capre trovavano rifugio i semi di queste piante solo se crescevano all'interno di questi cespugli spinosi quindi questi cespugli spinosi di rosa canina o fragno facevano da incubatrice da protezione alle giovani querce e funziona ancora tuttora così anche i rovi il famoso rovo la pianta che fa le more quelle con le spine è una pianta importantissima una pianta dal punto di vista ecologico fantastica perché colonizza velocemente copre il terreno mantiene l'umidità come pure questi cespugli adesso sono sfiluccati perché probabilmente qua c'è ancora del pascolo e poi una foto fatta in piena estate è stata in una situazione molto critica ma altrimenti questi cespugli coprono il suolo formano una specie di incubatrice producono intanto lettiera nel loro interno perché all'interno di questi cespugli il vento non porta via le foglie si ha un accumulo di substrato e in questo substrato o perché cadono spontaneamente o perché gli uccelli i roditori le ghiandaie vanno a nascondere i semi di querce germogliano e crescono perché non tutti i semi che gli uccelli e i roditori nascondono poi consumeranno loro ne nascondono molti di più si calcola che una ghiandaia ne nasconda fino a 20.000 semi ogni autunno ma non ne consuma neanche la metà è un istinto che lo fa in caso di necessità perché se ci dovesse essere un inverno particolarmente freddo o del gelo prolungato lei si ricorda e si ricorda dove le ha messi tutti e 20.000 e li va a trovare tra l'altro li nasconde con dei sistemi che conosce molto bene quindi sa il tipo d'albero sa la dimensione dell'albero non è che li nasconde a caso ma sa che li mette in certi posti che sono sempre gli stessi li va a cercare e li trova poi trova degli altri non succede niente insomma è tutta una comunità e allora questi semi nascosti sotto le foglie alla base di questi cespugli riescono a germogliare e a crescere con una certa protezione la protezione non è solo dagli erbivori ma anche per l'evapotraspirazione dell'estate un germoglio di quercia comincia a emettere la radice appena è caduto al suolo dopo qualche settimana se c'è umidità la radice cresce durante tutto l'inverno anche se gela il suolo la radice è così resistente e forte che forma un fittone e si allunga verso il basso quando arriva la primavera questo fittone è già 30 centimetri 40 di lunghezza e sopra ancora non c'è niente con la primavera uscirà la piantina perché sta strategia così furbesca è una cosa fantastica perché perché la radice nel terreno trova le condizioni ideali di umidità e anche se c'è il freddo comunque il terreno non è mai tanto freddo da non permettere la crescita invece la piantina sopra esposta con i tegumenti con le foglie tenere al gelo potrebbe avere dei danni e poi soprattutto l'intelligenza delle piante non è da trascurare quella di assicurarsi prima le fonti di umidità e di sostegno e di nutrimento nel suolo e poi comincia a crescere sopra ecco perché le nostre piante quando vi dicevo le piantiamo dai vivaio e poi dobbiamo aspettare tre anni affinché ricrescono perché non sono nate là sono cresciute in un vivaio e sono state trapiantate almeno due o tre volte dal piantonaio al vivaio poi dall'innestatoio al vaso ogni trapianto è uno shock anche se le piante non piangono non ridono e non si lamentano quando le storpiamo con le potature che spesso si combinano quelli sono degli shock tremendi e la pianta va sotto stress e se va sotto stress emana degli ormoni può essere attaccata da parassite il trapianto è uno shock incredibile io purtroppo continuo a farlo cerco di sempre di tirare tutte le radici con massima attenzione ma comunque è uno shock la pianta che nasce da seme non subisce questi shock si assicura un buon ancoraggio il fittone che avrà raggiunto 40 centimetri di profondità è sicuro che almeno a 40 centimetri c'è un minimo di umidità che gli permette di superare l'estate poi all'interno del cespuglio il tutto è come un incubatrice un incubatrice naturale e le incubatrici naturali sono proprio i rovi i cespugli le piante che danno maggiori problemi agli agricoltori quelle che vengono considerate come delle piante invasive brutte fetenti e puzzolenti che devono essere bruciate per prima ecco perché il fuoco è drastico perché col fuoco vai a sterilizzare tutto e praticamente sterilizzi sterilizzi è la parola più idonea dove si deve coltivare diventa un problema tutto questo perché andare a coltivare qua dentro se io volessi recuperare questo bosco e coltivare comincio a mettere delle piante qua al centro che hanno la luce le comincio ad aiutare e poi col tempo devo fare in modo che queste querce tutti intorno non le seppelliscono con le loro chiome perché sono già più grandi sono più resistenti sono più forti e i cespugli i cespugli a volte si possono recuperare in tanti modi per i fiori la rosa canina per esempio ha le bacche commestibili farne tisane infusi e quant'altro me lo conoscete immagino queste cose se ne vedono da per tutto il prugnolo quest'altro qua non è una pianta tanto brutta da scartare è un ottimo porta innesto per le susine e per le prugne che tra l'altro è uno degli antenati che ha dato luogo alle prugne moderne quelle grosse prugnolo prugne anche il nome ce la dice lunga quindi recuperare uno di questi cespugli pulirlo innestarlo significa avere un ottimo albero da frutto radicato già bene nel terreno che ti vive un tempo molto più lungo di quello delle piante comprate è la cosa più bella che non ha bisogno di essere innaffiato perché è già nato lì e sta già lì da solo e cresce già da solo questo sistema lo scogitavano e lo facevano i pastori credo e gli agricoltori dall'epoca dei romani anzi dai greci da 3.000 anni fa innestavano i peri e i meli selvatici che stavano sparpagliati su tutti i territori e poi anche i prugnoli e tante altre piante andiamo avanti questa invece è una commissione di origine antropica cioè anche qua c'è una specie di habitat con dei pini e poi sotto tutto pulito si vedono delle macchie più verdi queste che probabilmente probabilmente perché la foto non è di grande qualità potrebbero essere dei piccoli pini d'Aleppo che stanno crescendo alla base sto pino d'Aleppo non si sa bene se è stato introdotto già dai romani o se è di origine proprio italiana di fatto c'è che sul Gargano ci sono delle pinete che probabilmente sono naturali poi il pino d'Aleppo è a diffusione mediterranea orientale quindi Grecia Turchia tutta questa parte orientale ci sono le pinete con le stesse condizioni di clima di temperatura eccetera del nostro Gargano e probabilmente da lì o se è diffuso o è stato portato in giro già dagli esseri umani ha avuto una grande diffusione il pino d'Aleppo questo pino è andato a sostituire la leceta vi ricordate la leceta avevo detto già dall'epoca romana hanno provveduto a eliminarla e hanno coltivato i pini sia pino d'Aleppo che pino domestico perché fusto dritto anche in questo caso crescita più veloce più rapida del leccio fusti belli dritti tutti belli omogenei spesso il leccio è un po' storto se non cresce in condizione ottimale è tutto storto e praticamente il legname migliore per le navi sembra la stessa storia sono state tante potenze navali oltre la flotta romana e le potenze navali di cui ci facevano una storia tanta dalla scuola Pisa e compagnia la Venezia e quegli altri si rifornivano si rifornivano tutto di legname dall'appennino tanto che alla fine della massima loro espansione verso già verso il 1500 1600 già avevano esauriti tutti gli alberi di abete per fare l'albero maestro dovevano andare a tagliare gli abeti che stavano in Bosnia perché là c'erano degli abeti snelli e alti migliori dei nostri abeti che erano con i tronchi troppo larghi troppo massicci invece là gli abeti erano più sottili e arrivavano a 40 metri veniva l'albero maestro proprio perfetto cilindrico stessa grossezza sopra e sotto e andavano fin lì a fare le spedizioni per portare questi tronchi perché già qua avevano esaurati tutti al paese di io diciamo a Palaggiano ci abbiamo a Palaggiano a Palaggiano nella riserva biogenetica che sta a 4 km da casa mia abbiamo un pino d'albero più grande ah quanto è grande? non sono ma ci sono 4-5 persone sì anche questo la dice lunga sulla storia antica della diffusione di questa pianta perché anche se è stato piantato significa che è stato piantato almeno 200-300 anni fa e questo me ne dispiace perché in Italia dicevamo prima a tavola in Italia c'è questa cultura del cavolo c'è di considerare gli alberi come ostacoli oggetti ed elementi di arredamento se sei un architetto ti piazzano gli alberi qua e là nelle città il tiglio vicino al mare le palme in montagna come gli capita l'architetto perché il comune ha deciso così ti rispondono se passano l'odotto o una strada è la stessa cosa cioè è prioritario quello che stanno facendo l'opera o l'enel con i fili la stessa cosa e l'albero è un ostacolo tanto o c'è un mucchio di spazzatura o c'è un albero o c'è una roccia o c'è una montagna per loro devono andare dritti perché l'hanno progettato su foglio di mappa costa di meno quel tragitto rettilineo anziché fare la curva e vanno è successa la stessa cosa e succede milioni di volte in Italia la cosa mi rammarica molto perché manca sempre quella sensibilità alla base da cui eravamo partiti stamattina con il nostro discorso quando si può intervenire si deve intervenire perché io noto spesso che tra gli amministratori non capita tutti i giorni ma al mio paese è capitato una volta ogni 40-50 anni che c'è un amministratore che sta a sentire qualcuno che gli dà dei consigli e non tagliano gli alberi c'è una piccola villa comunale dove per anni hanno fatto quegli scempi di potature che secondo loro le chiamano potature ma quelle erano delle capitozzature e non vi sto a spiegare tutte le schifezze che facevano per farsi la legna quindi tagliavano i rami quanto più in basso possibile per fare i tronchi più grossi possibile hanno rovinato questi alberi facendogli prendere infezioni lasciato gli intemperi e quant'altro il terreno in quel punto era fertile gli alberi sono ripresi ma con mille difficoltà l'anno scorso ho offerto un lavoro di consulenza e potature gratuite al comune due mesi di lavoro gratuiti per evitare la stessa cosa perché era venuto il ciclo successivo che dovevano fare lo stesso lavoro beh il sindaco del momento mi ha dato retta mi ha fatto fare questo lavoro poi insomma c'è le cose che mi hanno fatto fare altre consulenze di un altro tipo però quei due mesi là sono stato tutte le mattine con il cantiere forestale a dire questo sì questo no questo sì questo no questo non si tocca questo va tagliato qualche ramo ho fatto fare solo uno sfoltimento per alleggere la chioma perché hanno dei marciumi all'interno ma non li ho fatti capitozzare e gli alberi sono rimasti in piedi quindi bisogna darsi da fare bisogna crederci io avevo quasi buttato la spugna perché dice qua i sindaci sono sempre gli stessi no ma poi c'è il tecnico del cantiere che è un esperto è esperto di fare la legna quello era esperto ma nel resto non gliene importava niente è comodissimo lo fai a tre metri d'altezza anziché andare sui rami fino in cima poi c'è questa mentalità che l'albero tanto pure se lo rovini se lo storpi non si lamenta quindi non dice problemi si riprende quando ricaccia e lo vedono ricoglioso dicono abbiamo fatto un buon lavoro perché l'albero si è rinvoltito sì ma intanto gli hai prodotto delle carie che lo condannerai a morte perché quando fai dei tagli specialmente sui rami oltre 5-10 cm di diametro cioè di questa dimensione va messo del mastice se ci tiene alla vita di quell'albero se è un albero di resinosa pino riesce a recuperare con la resina e si conserva perché è resistente di suo se è una quercia riesce a recuperare se la pianta sta in buona salute l'ulivo ci vive con il marciume ci convive per mille anni ma gli altri no gli alberi ornamentali che sono ornamentali hanno la funzione di essere d'ornamento cioè deve essere bello integro fare l'ombra quindi anche i ficus sono delicati prenderanno un sacco di marciume dai tagli se non vengono protetti andrebbero disinfettati e poi medicati con gli appositi mastici disinfettare e medicare costa una cavolata pochissimo perché il mastice costa poco e il disinfettante non è nient'altro che il solfato di rame quello che viene usato in agricoltura che è usato per l'agricoltura biologica costa poco un po' di solfato di rame in polo e sciogli in acqua e ce lo spruzzi su evita gli attacchi dei funghi e poi si mette il mastice per sigillare la parete la parte tagliata della superficie tale e quale come si fa con le carie dei denti infatti questa tecnica che poi ho applicato a quelle piante e gli ho fatto una bella relazione si chiama dendrochirurgia dendron da dendron che è il nome antico del nome greco dell'albero e chirurgia come la chirurgia che viene applicata agli animali e alle persone quindi vanno pulite queste cavità vanno disinfettate fin dove si può arrivare perché per certe volte non si può arrivare se sono grandi però in questo modo assicuri la vita dell'albero molto di più nel tempo e allora se non si considerano gli alberi come degli elementi di arredamento mettendoli qua e là a casaccio si ottengono dei risultati molto migliori tra l'altro l'Italia con quei climi se vi ricordate tutte quelle fasce ci permettono di avere una penisola così ricca e così bella che potrebbe essere un giardino dalle Alpi fino alla Sicilia altra che California cioè qua non ci manca niente evoluzione naturale tra macchia mediterranea e Pino d'Aleppo cosa è successo il Pino d'Aleppo adesso è andato a sostituire i lecci nella macchia mediterranea qua ci sono dei cespugli di macchia che potrebbero essere Lentisco Fillirea questi cespugli che crescono a forma arrotondata di 2 metri d'altezza per 5-6 di larghezza e il Pino d'Aleppo che comincia a sbucare queste cime dritte belle rivolte verso l'alto sono indice di vigoria sono indice di una pianta sana che sta crescendo velocemente e in pochi anni diventerà grande invece quando i rami sono piccoli sono corti sono contorti sono rachitici e quello è un pessimo segno significa che la pianta sta in condizioni stentate poi anche il colore è dato quasi per istinto già chi bazzica con queste storie lo sa già se una pianta ha un bel colore scuro verde scuro è sicuramente indice di maggiore salute di una pianta invece con la chioma verde chiaro o deperita allora mi sa che eccolo qua c'era un'altra bosco delle pianelle gravine nel vuolo e grotta del sergente romano io non sono stato in questa zona sono passato vicino e ho visto una situazione di questo tipo dove c'è un bosco di fragno rado con roverella e le radure di piante erbacee annuali in estivazione e ho introdotto altre due tre parole che adesso vi spiego piante erbacee sono tutte quelle a livello del suolo che sembrano secche per un buon periodo dell'anno non ci sono non si vedono sembra che in quel punto non c'è niente non c'è nessuna forma di vita in realtà quello è un sistema per sfuggire al caldo e si chiama estivazione estivazione vuol dire superare la stagione sfavorevole cioè l'estate sotto forma di semi queste piante adesso in questo momento hanno già diffusi i loro semi il tappeto erboso qua il tappeto erbaceo che sembra secco è imbottito di semi di tutte le varietà che in primavera hanno svolto il loro ciclo la loro funzione quindi alla prima pioggia questa roba gialla qua diventerà un bellissimo prato verde si bravissimo e questo ci dice una cosa ci dice ci fa pensare ci dice tutto quello che è stato fatto nella storia agricola di questi paesi di questi luoghi del Mediterraneo cioè coltivavano delle piante ortive utili e delicate nello stesso periodo in cui crescevano le erbe selvatiche se le vogliamo associare facendo due più due cavoli rape fave piselli ceci cipolle si piangono in autunno in questo periodo perché adesso c'è più umidità e possono crescere in concomitanza e in contemporanea le piante selvatiche è un sistema per sfuggire all'aridità non si può pretendere di far crescere le fave ad agosto però ci si è sempre riuscito per tantissimi anni con il ciclo autunnale-invernale o addirittura autunnale-invernale e primaverile gli stessi cereali lo stesso grano cresce diciamo spontaneamente quasi da solo soltanto seminandolo in autunno e raccogliendo i frutti poi all'inizio dell'estate alla fine della primavera senza irrigazione in condizioni naturali poi quando si interviene l'irrigazione già quella è un'aberrazione perché è successo qualche cosa allora se si assecondano i cicli della natura si può riuscire si possono avere grandi risultati si possono avere tante coltivazioni diverse andiamo avanti altra situazione macchia mediterranea che sta ricolonizzando un uliveto e avevo scritto si nota la diversità della vegetazione naturale anche la vegetazione naturale quando comincia a crescere comincia a crescere con tante forme diverse queste macchie di colore diverso macchie intendo macchie di cespugli sono tutte specie diverse questo potrebbe essere lentisco fillirea prugnolo una giovane roverella e dietro ci sono questi ulivi ormai che sono rimasti isolati intrappolati dalla macchia mediterranea un'altra cosa interessante si vedono due diversi muretti a secco due anzi tre appezzamenti di terreno diversi e si vede che l'uliveto in cima è già stato coperto dalla macchia mentre questi due no perché? perché il suolo qua in cima era stato impoverito per prima dove c'era pendenza è stato dilavato quando c'erano questi ulivi qua c'erano i campi già avevano impoverito troppo hanno spinto troppo la coltivazione quindi hanno distrutto lo strato di suolo è rimasto l'osso che è quasi lo scheltro la roccia fiorante con poche zolle di terra e l'hanno abbandonato perché era diventato improduttivo la stessa cosa che si fa in tutte le aree del nord Africa o delle foreste tropicali si coltiva si sfrutta poi si dilava tutto e si abbandona e si passa avanti si va più giù nelle zone più fertili questi campi sono abbandonati da tempi recenti perché ancora sono liberi si vedono i prati e si vedono soprattutto piccoli alberelli giovani molto più giovani più piccoli di quelli della macchia che stanno sopra questa è una lettura del paesaggio che è importante valutare perché già ad occhio se mi si chiede cosa posso piantare qua cosa posso piantare qua ti dirò sicuramente che qua ci vogliono piante con radici profonde resistente al caldo perché qua terriccio ne troverai pochissimo poco substrato qui invece puoi provare con qualche albero da frutto anche un po' più delicato come il melo in questi ambienti perché ci sarà uno strato di terreno leggermente superiore anzi molto spesso in condizioni buone il terreno che stava sopra adesso è finito qua a valle sta in questi punti di accumulo se non c'è stata eccessiva di lavazione se no adesso sta nel marionio o nel mare adriatico secondo ragazzi non avete idea mi sfuggite di mettere delle foto dei calanchi quelle formazioni che stanno in basilicata sono degli scavi profondi all'interno delle colline argillose e quanto materiale è stato disperso nel corso di poche centinaia di anni io avevo fatto la tesi all'università su questo di lavamento e modificazione del territorio oggi si parla di queste formazioni calanchive come i parchi dei calanchi come se fosse il Grand Canyon ma che Grand Canyon quello non è altro che un dissesto idrogeologico procurato dall'uomo in duecento anni cioè dalla rivoluzione industriale agli anni settanta agli anni settanta ottanta perché poi negli anni settanta ottanta è successa un'altra rivoluzione quella degli allevamenti con la globalizzazione gli allevamenti di questi animali e questo pascolo non era più redditizio qua in Europa e nel sud Italia ma era più redditizio importare la carne dall'Argentina o da altri paesi del mondo lontani e quindi gli allevamenti hanno avuto un crollo dei prezzi e tutti hanno abbandonato l'allevamento allo stato brado è rimasto qualcuno che fa l'allevatore ma poveraccio fa l'allevatore più per amore che per reddito e il suolo adesso il terreno sta recuperando a fatica la morale della favola è stato abbandonato il pascolo è stata abbandonata l'agricoltura e la natura sta crescendo a fatica con la macchia mediterranea con questi cespugli e tutto va avanti ma la formazione di suolo qua sopra è lentissima per avere 10 cm di suolo in condizioni standard più o meno idonee qua ci possono avere anche 10 anni non è subito il suolo quello che voi vedete accumulato con la pacciamatura quello poi viene decomposto dai detritivori e si riduce poi se ne aggiunge altro sopra e si riduce e quando si riduce rimane uno strato sottilissimo infatti se andiamo nei nostri boschi per esempio di faggio e a volte qualcuno va nei boschi a raccogliere un po' di terriccio per i fiori se scavi ti accorgi che scavando scavando di terriccio ce ne sono due o tre dita così poi subito c'è la radice dell'albero e c'è uno strato compatto eppure già ci sono gli alberi là da 100 anni ma terriccio ce n'è poco l'humus insomma si accumula con molta lentezza e molta difficoltà una bella scheda che dice l'evoluzione delle vegetazioni in ambiente mediterraneo due frecce queste possono essere quelle che sono le modificazioni antropiche cosa possono portare un'evoluzione regressiva quella evoluzione regressiva fatta in modo sconsiderato non quello che dovremmo fare noi noi se facciamo forest gardening facciamo una cosa del genere un'evoluzione di tipo naturale progressiva dal basso verso l'alto cioè partiamo da allora partiamo da connessione naturale abbiamo la foresta mediterranea lecceta quattro tagli un incendio hai fatto la macchia mediterranea tempo? un anno non è che ci vuole un secolo un anno basta distruggere questa con un incendio hai fatto questa poi non abbiamo niente da fare un altro incendio un anno dopo gariga andiamo a dare un altro po' di problemi un altro po' di incendi anche poi la gariga non diventa subito foresta e poi là per riprendersi già ci sono tempi di decenni per risalire qua la cosa è molto faticosa scusate i giochi di parole e quindi è molto faticosa la risalita per ripartire da macchia mediterranea a foresta mediterranea possono occorrere più di cento anni e in cento anni di incendi ne possono capitare quanti ne vogliamo e si ritorna sempre giù se siamo in condizioni di questo tipo prateria steppica mediterranea o colture vigne e orti per arrivare a foresta è ancora peggio perché siamo da una situazione più lontana più difficile meno humus meno nutrienti maggiore insolazione e tutti i problemi che ne conseguono il nostro giardino lo possiamo far partire da uno di qualsiasi di questi livelli se partiamo da un livello superiore è più facile dovremmo avere come minimo maggiore quantitativo di humus quindi se partiamo da sopra abbiamo una situazione più avvantaggiata ci dovrebbe essere più humus nel terreno maggiore umidità e sarà più facile far crescere i nostri alberi se siamo in una condizione estrema di questo tipo faremo più fatica quindi tutto quello che produciamo all'interno del nostro ecosistema non va buttato niente non si butta niente si ricicla facendo compost il compost è importantissimo e lo vedremo nelle prossime lezioni perché serve ad arricchire questi suoli e a portarli in situazioni più fertili desertificazione eccola qua è uscita vedete vi ricordate la zona di Foggia Manfredonia che era la zona meno piovosa come pure l'arco ionico qua da salire tra Taranto Matera all'interno poi sembra di andare più su e poi ci sono tante isole rosse ho saltato di dire che le isole rosse sono a quelle maggior rischio queste isole rosse nel nord Italia o nel centro Italia in realtà non sono questi dati non sono valutati solo al clima ma sono in base anche all'impatto antropico cioè alla costruzione di casi alla distruzione di suolo naturale dove ci sono queste grandi isole o ci sono grandi coltivazioni intensive o grandi città Torino per esempio è qua Roma qua intorno quindi queste zone del sud sono esposte già per fattori naturali e queste qua ci danno a mano l'uomo in Puglia abbiamo un po' di tutte e due ma pure in Basilicata non scherziamo altri esempi di associazioni vegetali allora associazione mutualistica un'associazione mutualistica significa di mutuo aiuto di scambio questi due qua questi due tizi si danno una mano l'albero e il muschio vanno d'amore d'accordo perché l'albero forma un bel sostegno grande quindi rivolto verso i ciel con i rami capta tutte le gocce d'acqua che gli scorreranno lungo il trongolo bagneranno fino alla base e i muschi ne approfittano per avere un bel sostegno una superficie su cui crescere senza essere calpestati dagli animali erbivori e da quant'altro quindi una superficie poi enorme grande per fare fotosintesi una cosa è fare fotosintesi in un prato dove tutti ti mettono i piedi sopra e una cosa invece sul tronco di un albero dove tutti quanti invece tutta la luce la puoi assorbire durante quasi tutte le ore di luce dalla mattina alla sera perché girando il sole illumina l'albero quasi tutto intorno muschio albero associazione mutualistica ognuno aiuta l'altro ah l'albero qual è il vantaggio il vantaggio dell'albero è quello di avere un tronco sempre fresco umido e protetto come se avesse una coperta fresca d'estate e calda d'inverno il muschio sugli alberi è una cosa è un indice di naturalità è un qualcosa di bello di utile altra storia invece l'associazione saprofita albero fungo i funghi che crescono sul legno sono dei funghi parassiti dei funghi che si comportano come dei predatori immaginate questo qua come se fosse un leone questa è una zebra se la sta mangiando dall'interno perché il fungo si nutre di lignina la lignina è la struttura principale che mantiene l'albero in piedi quella che dà luogo alla cellulosa e alla struttura di sostegno dell'albero e il fungo la disgrega mangiandosela è entrato all'interno attraverso una delle solite infezioni che dicevo prima a proposito dei tagli un urto un incidente qualcuno insomma che si è grattato le corna qua e alla fine l'albero è stato infettato togliere questa infezione è quasi impossibile a questo stadio perché per quanti funghi ci sono significa che ormai l'infezione è penetrata anche nei rami è andata verso l'alto e verso le radici per cui l'albero quando lo vedete pieno di fungo così è condannato avrà una vita molto breve perché il fungo ha detto che ormai quell'albero è meglio decomporlo e farci l'humus sempre per il solito ciclo che in natura non si butta niente e non si aspetta che arrivi poi il tecnico del comune qua non aspetta nessuno il fungo comincia a disgregare e quest'albero prima o poi cadrà certamente in ambiente urbano bisogna intervenire perché chi ha la macchina là dietro non sarà tanto contento a Francavilla nel mio paese avevano fatto cose di questo tipo hanno capitozzato degli alberi integri e c'erano degli alberi con dei funghi quasi simili a questo con il tronco svuotato e li avevano lasciati perfetti con le macchine parcheggiate vicino però è una situazione del genere io ho dovuto fare il coraggio ho detto no siamo in un ambiente urbano l'intervento estremo a me non piace sono un naturalista tagliare un albero mi dispiace mi infrange il cuore però l'ho dovuto far tagliare due alberi del genere perché prima o poi sarebbero caduti su qualcuno e ho detto non rimpiangiamo sul latte versato perché quest'albero è stato assassinato con tutti i tagli tagliamolo ci diamo gli occhi ma piantiamone quattro al posto di due e questo è il messaggio che vorrei lanciare e sempre in senso positivo non ne piantare due se ne hai tagliati due perché poi uno ti potrebbe morire e te ne rimane uno sì e no piantane quattro o in più altre associazioni invece di fitogeografia e di sociologia questa volta associate alle nostre famose culture i maia che la sapevano lunga sulla coltivazione di questi tre ortaggi cosa avevano fatto coltivavano qui non ho trovato una foto che assume quello che voglio dire ma ve lo spiegherò perché penso sia semplice coltivavano il mais la zucca e i fagioli insieme nello stesso terreno perché il mais funge da sostegno e da amido con le spighe il fagiolo da proteine ma ha bisogno di un tutore e quindi facevano arrampicare il mais sui fagioli e la zucca oltre che dare un po' di altri elementi nutritivi di vario tipo copriva il suolo con le foglie per proteggere l'evapotraspirazione di cui aveva bisogno la protezione di cui aveva bisogno il mais il mais se lo metti da solo in un campo si disidrata e devi stare sempre con l'acqua dietro ma se copri il suolo con le zucche con queste foglie così grandi che mantengono l'umidità al suolo e addirittura le aiuti anche con il fagiolo arrampicato sopra beh vi assicuro che la cosa diventa molto felice è una situazione di coesistenza tra ortaggi come quelle delle foreste tropicali in piccolo naturalmente e come l'essenza del nostro forest gardening il nostro foresta giardino dovrebbe essere qualcosa del genere trovare degli ortaggi dei vegetali che possono coesistere nello stesso spazio trai anche maggiore risorsa perché anziché fare tre metri quadrati uno di mais uno di zucca e uno di fagioli fai un metro quadrato e ce li metti tutte e tre e beh naturalmente poi ci devi aggiungere la rotazione agraria sì la devi spostare anche se il mais da azoto è una leguminosa però è meglio non insistere fagioli eh sì scusami infatti indicato i fagioli è detto mais il fagiolo ma mi fa piacere che state attenti pure se siamo a un certo orario i fagioli sono leguminosi arricchiscono il terreno questi invece li impoveriscono le zucche così così però se si fa la rotazione si evitano problemi poi ah vi do il microfono dove? allora mi si chiedeva se venivano piandati contemporaneamente la risposta è dipende dalle varietà se sono varietà a crescita istantanea è meglio di no prima bisogna mettere il mais si aspetta che si solleva da terra e poi si mette il fagiolo e la zucca perché se no la zucca copre pure il mais prima che esce se sono varietà con la stessa velocità di crescita se sono varietà differenti e torniamo alla storia delle antiche varietà probabilmente i maia avevano delle varietà che seminavano tutti insieme ma nascevano in tempi diversi e avevano risolto il problema sì noi bisogna noi nel nostro ambiente bisogna sempre aiutare intervenire e coccolare la zucca nella mia esperienza probabilmente non aveva abbastanza luce quindi non è andata è perché bisogna fare attenzione che la situazione del mais non è questa bisogna mettere il mais in modo più rado più lontano infatti una con un sesto come i grandi alberi della foresta come se il mais fosse il tuo grande albero posizionato in modo distante perché vi ripeto non ho trovato un'associazione già esistente in internet di quello che sto spiegando le ho dovute assemblare ma con difficoltà perché il mais non è così che va messo quello è solo mais è intensivo il mais dove metti la zucca e i fagioli deve essere posizionato più distante più distante significa che puoi metterlo anche file o a spaglio ma tra una pianta e l'altra di mais qua ci saranno ci saranno 50 cm tra le file e 10 cm tra le piante e in condizioni invece di associazione vegetale devi fare forse 70-80 cm intorno a ogni pianta anche un metro un metro cioè una qui e un'altra qui di mais e in mezzo ci mette zucca e fagioli e tutto quant'altro e quindi è un altro discorso non è una coltivazione intensiva altra associazione ortiva di fiori spontanei e ortive naturalmente queste forme e queste aiuole vi devono lasciare sviluppare la fantasia e immaginare il vostro orto il vostro giardino così come meglio lo preferite perché ci sono tante situazioni l'importante è sapere già a priori quale siano le specie che diventano più alte quale sono quelle più piccole e così via per esempio la carota può crescere insieme alle zucche però attenzione se la coltiviamo d'estate viene sommersa dalle zucche addio carota coltiviamolo in inverno oppure lontano dalle zucche che non la ombreggiano ok finito ci siamo abbiamo finito sì non c'è nient'altro questa è l'ania allora come tempi ci siamo non abbiamo sforato molto adesso abbiamo una pausa da programma e poi una passeggiata una passeggiata pratica prego grazie a voi ah se c'è qualche intervento domande e quant'altro finché siamo in diretta abbiamo altro po' di tempo non so se conosci la milba la milba dei fiscali no cos'è la milba stavano per bruciare eh perché ripetevano la stessa coltivazione probabilmente sì già quella già quello va bene mi dicevi della milba ma è una tecnica sì era la tecnica che usavano per bruciare il terreno ok no non la conoscevo questa tecnica ma immagino che quando si brucia è sempre una situazione già di coltivazione intensiva cioè si sterilizza il suolo perché poi quelle piante potrebbero portare a malattie parassiti e quant'altro che rimangono nel suolo ecco perché avevo detto di sfuggire a quella situazione con le rotazioni le rotazioni significa spostare la coltivazione in un'altra aiuola più lontana possibile meglio è grazie a tutti grazie a tutti